a me l'hai mai succhiato? io la ingraviderei il tuo ragazzo no 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 la dignità del prodotto come anime ma chi c'era tutti la dignità del prodotto anime? scusate gli anime fanno già schifo voi che cazzo di dignità devi avere d'anime? scusate ma poi chi cazzo la devi difendere la dignità degli anime? il samurai col cazzo al vento c'ha degli angoli con cui obiettivamente si potrebbe provare a cercare un certo stimolo sessuale ma io sinceramente me la scoperei mio nonno oshi è sopravvalutato quella carta di merda che c'hai a cazzo che devi fare? devi stracciarla usi per concimare le terre ma magari è pubblicato sulla lista shonen è shonen ma che ci vuoi? questa serata sarà distruttiva già lo so potrei essere ubriaco no no ora come sto cominciando se così fosse qualsiasi cosa succeda in anime di time rimane in anime di time e viva anime di time benvenuti all'anime di time siete con noi siete con noi a parlare di cartoni attivati con Italo e Giallo con Paolo solo perché Italo e Giallo sono affanculo io chiedo più volte per avere le conferme Italo perché lo sai che in questa vita in cui non ci sono più certezze io ho bisogno di conferme costanti e se tu non me le dai io sto male il problema è che Paolo non posso dartela perché ho appena scoperto che c'è un altro video della stessa persona sullo stesso argomento quello mi sa che è un riassunto e quest'altro ci sono le opinioni tu che vuoi il riassunto o le opinioni? senti qual è quello che dura di meno? il riassunto mi sono messo conto perché la facevo di quanto stupida fosse la domanda quanti video dovrei mai essere belli in chi sono? che è? no scusa subito scoppiare mi sono reso conto di quanto stupida sia stata la domanda se era più veloce il video è riassunto sai proprio il blue screen of death nel celpello infatti è una cosa così stupida che io neanche ci ho pensato è angelo ha riscatato il sondaggio o puzzo? spero di no spero non ci sia bisogno di fare un sondaggio per scoprirlo odora di dici la verità ok buon pomeriggio cari spettatori di anime tea time ben ritrovati sul nostro canale oggi il mio ospite è Italo ieri era Paolo oggi è Italo ieri l'altro era Paolo oggi è Italo e appunto ben ritrovati e no non ho fatto non ho fatto 35 anni angelo ha 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 sei simpatico ha ha Italo sono stanco c'è molta voglia di vivere oggi no guarda oggi proprio pimpante allegro no no oggi proprio oggi devi essere te la falla comica ah merda andiamo bene guarda noi per circa 50 minuti cultura oratoria per me è il nuovo meme del millennio a me fa troppo ridere cultura oratoria ieri ti giuro sono stato sul letto per 10 minuti al luffo mi immagino sai tipo il meme con il tipo sdaiato con le braccia concerti che guarda il soffitto la cultura oratoria la cultura oratoria la cultura oratoria la cultura oratoria è un po' bello farlo con Paolo perché Paolo dice un sacco di volte cultura no e quindi non puoi correggere istantaneamente dicendo di cultura oratoria vabbè senti se facessimo un dizionario di tutte le stronzate che dice Paolo in ogni live avremmo un libro già pronto da poter pubblicare per rivaleggiare quello di Chirio nelle tendenze di Amazon sarebbe difficile metabolismare tutto quanto eh metabolismare no 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 tranquillo tranquillo me lo sto ricordato grazie Dan sono tre mesi e rimarrò qua a rompere il cazzo ancora per un bel po' di tempo vabbè tranquillo più rimani più soldi ci arrivano più siamo contenti quindi va bene così diceva sono qui da tre mesi e rimarrò a rompere il cazzo per altro tempo noi siamo solo contenti mica rompere il cazzo è darmi un'idea della vita che potrei fare quale vita vuoi fare? quella del pezzente eh già lo fai tieno ogni tanto un euro da questo tizio che non mi ricordo neanche chi è a posto eh ok e qual è la differenza rispetto a quello che già stai facendo? cioè perché il potrei fare grazie Mark per la sub non fa una mica non ci avevo pensato grazie Mark per la eh no scusami non era Mark che cazzo è? ah no aspetta niente stanno uscendo messaggi a caso mi è arrivata di nuovo la notifica del dell'abbonamento ma in realtà era un'altra cosa comunque vabbè oggi sono proprio fuori fase quando ci sono queste cose io penso sempre a Adam Cole che è un wrestler molto famoso mio migliore amico eh no è parecchio famoso per chi segue il wrestling però c'ha anche un canale Twitch e tipo gli donano 50 centesimi lui è super allegro super contento che gli hanno dato i 50 centesimi gli chiede ai i tizi che gli donano di raccontargli della loro famiglia perché li vuole conoscere poi 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 penso a Italo che appunto non sa ricordo non sa non sa leggere i nomi degli utenti che si sabbano non si ricorda gli utenti che si sabbati nemmeno li ringrazia li solleggio li ringrazio sempre salutava sempre salutava sempre allora Italo io oggi sono un pochino fuori fase come penso che si sono grazie cazzo per i beat non capite un cazzo di anime preferisco guardare una partita di golf piuttosto che seguire le vostre live siamo molto contenti che tu preferisca guardare una partita di golf piuttosto che seguire le nostre live come ci dimostra il fatto che tu sia qui a buttare i beat che dovresti utilizzare per pagarti l'appartamento nuovo però vabbè fai come ti parli un appartamento nuovo con i beat te lo pigli sicuramente guarda che beat dopo beat vedi che se lo faceva un appartamento comunque torniamo a noi Italo di che parliamo oggi se vuoi c'è un video di due ore le recensioni italiane di Crunchyroll no non importa guarda sembrava interessantissimo ma no per dire anime no grazie sto bene così due ore poi sto bene così allora niente raga noi oggi avremmo dovuto fare 27 minuti biscuit all una fama ingiustificata come 27 minuti 27 minuti e 6 secondi ah cioè io siamo gli ultimi a poterlo dire visto che abbiamo stracciato il cazzo alla gente con biscuit all per mesi e va bene ma questo video di 27 minuti se no se vuoi c'è il bug di superton è canonico oh selot non caccare il cazzo per favore ma io ma poi chi cazzo se ne frega se è canonico no ma sicuramente la discussione sarà quella conoscendo 6200 persone vabbè 6200 su dragon ball in due giorni non so nemmeno troppe sinceramente oh selot bisogna migliorare bisogna migliorare vabbè comunque raga allora noi oggi avremmo dovuto fare la ruota come il nostro solito giovedì ovviamente giovedì manca paolo e quindi la ruota non si può fa perché lui ha deciso che deve doveva sistemare la ruota col cazzo di javascript appena io avevo imparato a utilizzarla anche da solo senza di lui letteralmente la settimana dopo l'ha ricambiata tutta io non so farlo quindi non ci si può fare la ruota mi dispiace tanto 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 ma in compenso beh io e Italo ci inventeremo qualcosa sperando anche nel vostro supporto per intrattenervi in queste due rette che potrebbero anche diventare di meno in caso non ci aiutaste nel creare contenuto durante questa diretta ad ogni modo abbiamo messo da parte che ovviamente preventivamente non come i link che vedete che mi sta mandando in questo momento Italo che sta beccando adesso su YouTube ma sono robe che aveva preso in queste settimane nel corso del tempo e messe da parte proprio per occasioni come questa in cui non avevamo i contenuti pronti infatti sono tutti i video usciti ieri giorni fa tanto noi quando si condividono i video non facciamo vedere di quando sono vedono soltanto il video non importa citando questi totalmente andostrosi che lo vanno a cercare su YouTube appunto per verificare e aver recitato quello che hai detto lo farebbe davvero comunque dicevamo abbiamo appunto qualche videino da poter vedere insieme ma prima l'altro giorno Biacco mi ha scritto in privato per dirmi che su Reddit il caro Hirao il regista di Pomposan ha fatto un'oretta di Ask Me Anything quindi ha fatto un'oretta dove rispondeva alle domande un Fred dove rispondeva alle domande della chat di Reddit visto che ce l'abbiamo avevamo pensato di darci una letta insieme visto che qualcuna delle risposte comunque interessante parla in generale sia di cinema che di pompo le sue influenze eccetera eccetera tanto una letturina è un animatore o leggista che ha lavorato ad un sacco di produzioni diverse e in studi abbastanza importanti come Mettaus e Fotevoli quindi anche una testimonianza di valore quindi comunque roba abbastanza veloce tanto è durata soltanto un'oretta sì lo sapete come sono i giapponesi che danno le risposte più telegrafiche del mondo anzi che mi è sembrato rispetto ad altri molto voglioso poi hai visto con anche un buon inglese voglio sapere se Deepol in Giappone ha migliorato o se semplicemente si è fatto tradurre da qualcuno l'inglese del traduttore di G-Kids dai dagli il beneficio del dubbio al povero Irao magari veramente ha parlato in inglese che ne vuoi sapere tu? guarda se le conoscenze che ha dell'inglese sono quelle che mostra in pompo ovvero conoscere due wrestler dubbito che lo sappia parlare così bene vabbè ma lui è grande appassionato comunque di cinema estero quindi cioè chiaramente sa l'inglese perché guarda tutto in lingua madre perché sappiamo che l'unica esperienza con cui possiamo vedere prodotti che vengono all'estero è solo è soltanto quella di guardarlo con quella lingua lì non con sottotitoli doppiaggi tutto raw tutto raw assolutamente no? non era così? ti devo rispondere? no 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 possiamo andare avanti non ti preoccupare non so magari non so se magari vuoi rispondere a qualcuno in chat se c'è arrivato qualche messaggio prima di cominciare a leggere non stavo guardando perché stavo mandando i video recupero un attimo mentre recupero ti racconto la cosa che mi è successa ieri sentiamo che non è in realtà un evento più dei video che mi sto mettendo a guardare che sono dei video di un parrucchiere cinese ma proprio a ruota sì mi sto guardando costantemente e la cosa più bella è che sono tutti uguali cazzo hai creato un mostro fai i capelli uguali a tutte quante come il giapponese di cazzo che mi manda tutti i tagli delle ragazze con i capelli cortissimi che mi fanno schifo cioè io non mi riesco a capacitarmi perché sei attirato da questa cosa capisci però sono stato là due ore ieri col cellulare a scollare tutti i video suoi senti non è che hai trovato un taglio che magari puoi farti anche te o di darti una sistematina no o sono tutti i tagli femminili no a parte sono tutti i tagli femminili io i capelli li sto perdendo quindi è inutile che li taglio ormai ah dici aspetto che casca ora a soli sì 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 aspetto che mi posso fare poi il taglio alla mio padre che è quello lì senza tutti i capelli qua no no oddio sento c'ho anche il mio oddio sento è il mio destino è il destino che sto cercando di evitare con le unghie e con i denti mio padre c'ha il ciuffetto bello qua e poi cazzo però mio zio è pure peggio perché c'ha la la francescana sì in cerchio la cononna la francescana è mio padre devo dire la corona non mi rivediva la corona mio padre c'ha la cosa abbracciate la pelata ma io l'avevo fatta magico la pelata da tempo fa tanto mi toccherà rifarla in futuro perché vedete che comunque la linea è quella che è peraltro mi ha fatto venire in mente c'era anche un po' di sessismo in quei video perché una certa c'era una ragazza che sta parlando appunto di qualcosa aveva fatto ai capelli e gli dice al tizio mi avevano fatti così male che una certa mi sono dovuta fare tipo un maschietto tipo pelata ma l'hai detto sessissimo vabbè allora c'è il tomorros daniel che chiede penso a me in realtà o no questa è una considerazione dopo aver sentito italo parlarne in modo entusiasta ho finalmente recuperato il log davvero un capolavoro lo ringrazio per avermi fatto conoscere una delle migliori serie che potessi vedere piccola domanda durante la visione per quale dei due giornali strateghe avete fatto il tifo yang o reynard giughe liang giughe liang giughe liang chi è giughe liang come kong min ah quello è il nome la vai rispondi lascia sta vai vai prego continuo è ben confuso adesso voglio capire kong min c'è il nome giapponese diverso no no è cinese è cinese kong min è il nome giapponese kong min è il nome di cortesia ah il nome di cortesia no perché quelli di solito hanno sia il nome cinese che il nome giapponese kong e come è il nome giapponese ok vabbè io in realtà non ho fatto il tifo per nessuno dei due perché la serie ti spinge a non farlo ok cioè non vuole metterti nell'idea di considerare reynard il cattivo e yang il buono o viceversa certo ci sono dei personaggi malvagi o comunque eticamente scorretti ma di per sé quello che l'hogue ti mostra è la vita è quello che succede nella nostra realtà solo che lì sono nello spazio 500 anni avanti rispetto a noi e ovviamente a livello ideale mi ritrovo molto di più in yang perché vede la vita nella stessa maniera in cui la vedo io però anche per reynard mi sono trovato molte volte a fare il tifo perché comunque la sua esperienza di vita non è semplice e quello a cui è arrivato è la maturazione che ha dovuto sopportare nella difficoltà di vivere in quell'impero in quella struttura poi societaria ecc comunque log è una serie che non vuole portarti secondo me a fare fazioni e cose del genere ok ok non c'era mi sa nient'altro se non Veslime che mi vede con l'acconciatura di Saitama ma ne dubito sono gusti vabbè allora direi che possiamo passare al reddito al reddito abbiamo qua di città di danza magari magari è il true reddito sì sì magari così almeno possiamo smettere di lavorare allora allora quindi siamo su il nostro caro r slash anime appunto il caro Takayuki Hirao regista di pompo dei cinefil pompo san e i galassi pompo san che appunto diceva qua vabbè con una piccola presentazione ho lavorato per Madhouse Photable al momento lavoro come regista freelance per la televisione ho diretto Futakoy Alter no no queste cose non le ha fatte come no come no ah dici facciamo finta vabbè andiamo subito avanti effettivamente mentre leggevo pensavo come ha fatto a fare sta merda goditer va bene è un esperimento fallito ma Futakoy Alternative ma che me lo ricordo male però me lo ricordo proprio brutto io non me lo ricordo proprio perché non l'ho visto quindi è posto così vabbè facciamo finta che appunto questa riga non ci sia ho diretto episodi in Paranoia Agent Death Note Attack on Titan e molti altri per quanto riguarda i film ho fatto da regia per Karano Kyo Kaiga The No Sinner Paradox Spiral Gyo Sakura Nohondo e Magical Sister Yoyo Tonene che io non ho visto anche si vedeva già un po' della sua estetica ha anche scritto un romanzo chiamato Neko Mono Oji Tobake Mono Hime ok Noke Mono oggi comunque vabbè qui ci dice che il 27 e il 28 di aprile in America avranno la fortuna di andare a vedere il cinema Pampo Sun cosa che noi invece non abbiamo ma come scusami c'è solo due giorni ma non succedeva solo in Italia no ah no no fra l'altro in realtà è un giorno perché in uno lo puoi vedere il giapponese sottiturato e nell'altro lo puoi vedere doppiato si vabbè comunque due giorni ah no ma se lo vedi in un modo nell'altro sono due film diversi Italo ancora sta cosa devi capire se tu guardi la roba doppiata non è la stessa esperienza dei giapponesi basta di queste cose ma va wow non sapevo che le interpretazioni attoriali variassero di persone in persona wow e ma perché dovresti vedere qualcosa che è diverso da come è stato pensato per i giapponesi ah in questo caso forse è meglio andare a vedere con i sottotitoli perché non sappiamo qual è la qualità del dossaggio inglese di solito io non non mi dissocio da quello che ha detto il mio collega lo potevamo vedere per bene durante la cosa la presentazione degli spyper family col dub inglese da kirio poi non l'ho visto ero in palestra vabbè comunque insomma ci saranno poi anche delle proiezioni per i fan canadesi viva comunque per un'oretta è rimasto a rispondere alle domande che venivano fatte nel thread vediamo quelle che sono mi fa piacere comunque che l'azienda si chiama gkids si chiama che porta pompo dei cinefil pompo una bambina è in direttore per i bambini no va bene non funziona non funziona così anche perché non è una bambina come no è più grande di me come no ma il design è quello di una bambina cioè lei mi sta in giapponesi gli piacciono le bambine lei mi sta dicendo no non lo dire così dove vai non mi abbandonare come cedino dove sei non mi abbandonare così vabbè comunque ho trovato ho trovato cazzo dice ho due storyboard di pompo a casa e non ne ho pagato neanche uno not bad mi raccomando ricordati uno di infilarlo nel pacco che poi dovrai spedire a me cazzo comunque salve signori Rao volevo chiederle ah tu sei Rao ok volevo chiedere qualcosa per quanto riguarda l'utilizzo della camera nel cinema nella realizzazione dei film so che ovviamente eh animati sì in anime filmmaking sì 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 vabbè scusa pensavo fosse scontato visto che si parla è importante quella visto che lo dice dopo si parla di pompo che la camera non esiste perché quando gli faccio l'appunto io non va mai bene so che la camera quella reale vera con cui si girano i film dal vivo non esiste realmente negli anime wow ma in pompo possiamo vedere come ha provato a replicare l'estetica di un film live action dell'utilizzo di una camera di un film live action così da poter creare alcuni 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 shot alcune cut alcune riprese all'interno del film del film anime specifichiamo che non c'è più adesso perché in realtà prima certo che c'era la telecamera nell'animazione era con quella che registravano tutto quel macchinario gigantesco verticale no quello lì che c'era si può spassare sotto i fogli com'è che si chiamava fra l'altro com'è che si chiamava fra l'altro no che cazzo ne so ok la mia domanda è quali sono i motivi per cui le piace lavorare con una videocamera artificiale rispetto per quale motivo le piace utilizzare una videocamera artificiale negli anime piuttosto che una videocamera vera nei film live action dice quali sono le sue cose preferite di utilizzarla non è che lo metto in comparativo nel senso non l'ha mai fatto un live action quindi come lo fa a sapere vabbè ok scusa l'ho letta male ho chieduto peggio quali sono le cose che preferite che cose sono le cose che le piacciono del fatto di utilizzare appunto una videocamera virtuale artificiale nella realizzazione dei film animati ok vuoi aggiungere tutte le risposte o continuo io vabbè leggo io così facciamo un po' di role playing allora la cosa migliore del lavorare con una camera artificiale è la distanza tra il soggetto e appunto la camera in questa maniera se una persona è davanti all'obiettivo e c'è un'altra persona sullo sfondo puoi semplicemente tagliare la distanza tra la persona e lo sfondo a me piace usare questa tecnica davvero parecchie volte infatti in pompo si vede praticamente sempre ok andando avanti gli è stato chiesto vabbè ho avuto il piacere di vedere pompo quando hanno fatto la proiezione speciale fra le sue intelligenti transizioni e l'umorismo meta pompo mi è sembrato prendere al massimo tutti i vantaggi del medium del medium anime del fatto di sfruttare tutti quelli che sono i vantaggi di utilizzare un anime piuttosto che un live action ma in realtà è un film che è un adattamento di un web manga mi stavo chiedendo quale pensa che siano le cose importanti a tenere in considerazione quando si adatta una storia da un media all'altro questa è una domanda molto interessante visto che appunto di adattamenti animati ne parliamo spesso ma non è che abbiamo mai avuto grossi riscontri da parte di appunto persone che ci hanno lavorato che potessero dirci da loro spoiler abbiamo ragione noi vabbè grazie grazie vabbè poi parlava della cosa della danza meme di Natalie che è presa da fortnite se non ricordo male era l'altra pezza della domanda ma noi le cose dei meme degli americani non ci interessano invece ci interessa la risposta del nostro Irao tra l'altro piccolo appunto sul manga che ho visto in realtà continua dopo il film perché c'è un personaggio alla fine del film che a quanto pare si vede dopo vabbè le hai lette quindi tutte le risposte di questo thread non ho letto un paio non ho letto un paio perché volevo vedere se era interessante o meno cioè mi dici vedi se lo possiamo fare e volevo vedere se lo possiamo fare allora facciamo la risposta vai vai diciamo che se parliamo del trasformare qualcosa in un anime adattare qualcosa in un anime la domanda più importante da farsi è perché lo stiamo facendo per esempio se devo adattare un manga in un anime il più delle volte è per vendere il manga più interessante cosa? cosa? penso che adattare a ciò che il media ha da offrire sia la cosa più importante che c'è il medium scusate e questo è quello che vi diciamo praticamente sempre se passi da un manga a un anime senza capire quali sono le particolarità dell'anime inteso come linguaggio non stai facendo un buon lavoro stai facendo un compitino che magari sarà apprezzato da chi ama il manga ma di per sé non aggiunge nulla esatto e Cazzo ci chiede domanda se pompo verrà proiettato nelle sali americane il 29 di aprile era in realtà dal 27 il 28 com'è possibile che la gente stia facendo domande dopo aver visto pompo è stato proiettato mi sembra a novembre non era se ottobre in novembre in un festival del cinema che poi è la versione che in realtà abbiamo visto tutti quanti quella di quel festival lì che è l'unica al momento disponibile con i sottotitoli in inglese sì esseri poco attento caro Gazzia perché l'ha detto il tipo prima c'era la domanda precedente c'era non so se poi l'avevo letto oppure no ma comunque è stato proiettato comunque mi pare da novembre però non sono non ci metteranno sul fuoco sulla data comunque anno scorso fine anno scorso altra cosa molto divertente per rimanere in tema con quello che ci diceva Vitalo delle risposte striminzite del dell'agente giapponese che lavora nel mondo degli anime notare come ha fatto ben tre righe per spiegarci la parte interessante della domanda e poi cinque righe per parlare del balletto vabbè la due legge la risposta del balletto non ci interessa il balletto non ci interessa lui era semplicemente sorpreso del fatto che fosse popolare in america vabbè comunque salve signor Takayuki Rao grazie per tutti i suoi ottimi lavori in quanto grande fan di Paranoia Agent e del compianto Satoshi Kon mi chiedevo come fosse aver potuto lavorare assieme a lui in un progetto qualcosa che ha trovato unico appunto proprio in questa esperienza durante quell'esperienza se posso fare un'altra domanda quali sono i suoi film live action preferiti mi piacerebbe avere qualche consiglio da parte sua spoiler non la poteva fare che non gli ha risposto peraltro quando ho letto la prima domanda ho pensato e mo questo come fa a rispondergli che Akon non l'ha mai neanche visto e infatti ha risposto dicendogli su Paranoia Agent ero davvero giovane e circondato da veterani dell'animazione pensavo che sarei stato distrutto a livello nervoso che mi sarebbe venuto un risultato di me però è andata bene e sono riuscito a imparare molto e ciò che ho imparato è diventato una grossa parte di ciò che sono come regista e mi ha anche aiutato a costruire le mie basi come animatore quindi fondamentalmente Akon non c'entra un gatto è stata una bella esperienza classico è stata una bella esperienza è stata piacevole vai a capire che cosa ha preso da quella produzione perché io di Akon in Terrain non c'è un cazzo però aspetta che bevo un secondo allora salve signor Irao grazie mille per questo angolo delle domande fra i i super dettagli dell'iMac e la la danza quella di cui parlava prima l'altro ragazzo Pompo ha un film molto moderno qual è stato il suo questo è quello a cui si riferiva prima Italo qual è stato il suo cameo easter egg preferito nel film che spettatori casual come possiamo essere noi possono essersi persi verso la fine c'è verso la fine quando Pompo Pavla con Misti al telefono nel nel locale se guardate nello sfondo c'è un personaggio zan 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 e c'è quello che ha messo l'immagine e io dico chi cazzo è anche io ho detto io ho pensato anche io l'immagine adesso dovreste no me l'ha aperto in un'altra scheda scusate arrivo subito non è uno spoiler raga quindi nel senso ve la possiamo far vedere tranquillamente è questa ragazza qua dietro io ho visto ah chi cazzo ho pensato magari è qualcuno che ha preso da qualche suo lavoro precedente l'ha affilato così a muzzo a me lo sai che mi ricordava quella di suiomi moonface aspetta sto cica la protagonista che c'aveva più una modalità di uguale oddio non ce la vedo tantissima somiglianza sinceramente come la ricordo io che poi è quella che ho visto 10 anni fa sinceramente non ce la vedo molto somiglianza ma come appunto ci diceva Italo visto che in questo modo ha scoperto che il manga sta andando avanti è un personaggio che compare nell'arco narrativo successivo al film è una un'aspirante attrice per la precisione quando pare c'è pure uno spin off il manga spin off tutto suo si chiama Fran Francesca se vi interessa e lo spin off si chiama Ehi Gadaschi Fran Chan ah quindi è una giovane ragazza italiana emigrata in Giappone per cercare fortuna a parte non penso che sia il Giappone visto che si parla di Gnalliwood però non penso potrebbe essere una giovane ragazza italamericana non lo sappiamo comunque poi quali sono stati i registi che più hanno influenzato il suo stile Martins Corsese Danny Boyle Satoshi Kon Kiyoshi Kurosawa e Giorgio Romero e mi chiedevo ma in che maniera c'è un cazzo di queste persone nel suo modo di fare le cose io sono ignorantissimo da questo punto di vista quindi non sapevo proprio dire quindi magari con Danny Boyle ci potevi trovare un po' più di somiglianze soprattutto per le cose più recenti che ha fatto tipo Sing Me Yes e cose del genere però Scorsese che c'entra te la dunno allora andando avanti ovviamente abbiamo i normi del cazzo questo è Cile a Martins Corsese solo uno dei Cileasti più famosi di sempre mamma mia Italo te la prendi tanto allora io sono un vero elitista quindi quando vedo i finti elitisti mi arrabbio hipster allora salve signori Rao c'è qualcosa nelle sue opere che alla quale pensa che gli spettatori dovrebbero prestare più attenzione qualche aspetto specifico in un anime oppure un intero anime che potrebbe non essere conosciuto non essere considerato non vedo l'ora di poter vedere il film pompo sana al cinema allora sì sono quegli aspetti che non faccio io una parola lo sfondo specificatamente in pompo l'arte l'art setting e il color setting sono molto importanti è una cosa un po' tecnica ma abbiamo aggiunto parecchi colori diversi negli highlights e nelle ombre attraverso il film nelle luce e nelle ombre si vede molto comunque anche soprattutto nei determinati shot tipo quello strabello dove costruisce all'inizio mentre sul pullman l'immagine della ragazza che salta sulla pozza sì sì veramente molto bello sì sì ma pure quelle in cui ci stanno pompo e il protagonista che parlano e ci stanno i vari esempi delle cose che fa vedere tipo le chiappe di mistia ok allora signori Rao ecco in pompo uno dei messaggi che il film cerca di trasmettere è che un un cineasta un regista dovrebbe fare dei film come messaggio per qualcuno che allora è caro c'era qualcuno in particolare a cui voleva indirizzare a cui vorrebbe mostrare questo film sta scherzando io sono giapponese e infatti non esprimiamo così i nostri sentimenti e infatti la risposta perché è l'unica la risposta è stata quella se dovessi scegliere una persona a cui mostrare questo film sarebbe il me stesso del passato che è stato salvato appunto dal cinema oh ma quindi il protagonista è un self insert del regista no sei tu so io c'è anche la stessa iniziale fra l'altro se facciamo g.fini nessuno vorrebbe accorgersi ok poi 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 abbiamo quello web che comincia con hirau san perché ovviamente siamo web quindi dobbiamo utilizzare anche gli onorifici però tutto il resto del messaggio però questa è la risposta più lunga che ha dato tutto il resto del messaggio ovviamente in inglese ho notato che lavora nell'industria degli anime da un sacco di tempo ah pensavo avesse fatto solo e soltanto questo film che è l'unico che conosco come pensa che sia progredito ed evoluto nel corso degli anni se effettivamente è maturato cambiato evoluto ho anche visto che ha scritto un romanzo come è stata come esperienza pensa di rifarlo in futuro scrivere romanzi è davvero divertente nella produzione di anime ci sono tantissime persone di solito scrivo le mie sceneggiature ma c'è sempre un sacco di gente a essere coinvolta e le loro idee devono essere considerate però invece quando devo scrivere un romanzo in pratica siamo soltanto io e il mio editore come due persone quindi ogni cosa che voglio che volevo includere quindi ogni cosa che ho fatto era quello che volevo includere e c'è una certa libertà quindi è stato molto divertente non avevo capito all'inizio si ci chiediamo come sia possibile visto che appunto sono lui è il suo editor ci chiediamo come sia possibile che sia veramente tutto quello che voleva includere ma vabbè questi sono i misteri del mondo giapponese bisogna vedere pure come differisce il lavoro di un editor di romanzi da quello di un editor di manga che comunque sono due industrie diverse purtroppo però non sapremo mai come il nostro Irao è maturato nel corso della sua carriera di cineasta degli anni ha proprio ignorato del tutto sì ma perché è perché sono fatti così cioè loro leggono l'ultima domanda e quella lì e basta gli altri sono dimenticati allora salve signori Rao quali sono le più grandi quali sono state le più grandi differenze fra dirigere una serie per la televisione e un film ci sono delle considerazioni che anzi delle preoccupazioni delle cose che vanno tenute più di conto rispetto ad altre quando si passa da fare una serie tv a fare una serie per il cinema sì una serie per il cinema un film ovviamente per il cinema la più grande differenza credo che siano i soldi perché una serie tv non ci danno mai nulla di budget e siamo costretti a fare la fame mentre quei film ci danno 10 milioni addirittura non mi pare ci sia scritto questo ah no 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 giusto c'è scritto la differenza è il tempo ho detto giusto adesso adesso è giusto in un film si tratta di una semplice lunga lunga sequenza e il personaggio cresce o qualcosa succede in quel lungo periodo di tempo devi quindi costruire un climax e una risoluzione in una serie tv invece devi sviluppare il personaggio il climax e ancora di più in solo 20 minuti per i film è tutta una questione di sottrazione dove devi praticamente tagliare cose dal risultato finale mentre invece nella televisione si tratta di aggiungere diverse storyline ecco questa è una visione un po' più particolare che si riferisce più che altro al tempo di realizzazione in sé per sé il tempo di durata quindi non è un discorso prettamente tecnico nel senso di risorse eccetera ok andando avanti ecco questa era quella che ti dicevo che avevo detto prima salve signori Rao grazie mille per averci dato il suo tempo questo ha avuto la fortuna di vedere Pomposan l'anime New York tratta un'esperienza incredibile posso tranquillamente ragazzi sto togliendo il coso dello spoiler non è una cosa che vi rovina il film se la vedete in ogni caso se vi dà fastidio aspettate la prossima domanda uno dei motivi per cui aspetta stavo cercando un attimo di rimettere come la devo rimettere ti stai sentendo emozionato pure tu tantissimo tantissimo uno dei motivi per cui mi sono emozionato nel vedere il film è stato appunto vedere Jean sacrificare così tanto arrivando al punto di essere ricoverato in ospedale in nome della sua passione e della sua opera però capisco che nel periodo di oggi nel contesto di oggi c'è stato una sorta di c'è praticamente una sorta di glorificazione del dello stacanovismo dell'esagerare con il lavoro e cercare di aumentare quella che era consapevolezza da parte del pubblico del burn out quindi di quello di appunto rendere rendere più consapevoli le persone che c'è questo problema e che appunto che cos'è il burn out dal lavoro quindi che cosa vuol dire appunto lavorare troppo fino allo stare male fisicamente quanto quanto ha cercato di bilanciare il appunto l'etica lavorativa di Jean così da poter vedere il suo impegno la sua devozione nei confronti del suo prodotto ma senza farlo passare come un esempio negativo che dica che certe cose sono necessarie per riuscire ad ottenere il successo oppure oppure per lei è una cosa necessaria mi ero preparato la risposta così perfettamente che sono subito rispondendo infatti la risposta è ho cercato di trovare in tutte le maniere un modo per giustificare l'overworking e l'ho trovato grazie alle recenti leggi sul lavoro per le quali una compagnia o una produzione non possono forzare le persone a lavorare nel film di conseguenza ho cercato di fare attenzione per vendermi sicuro del fatto che Gin volesse tornare al lavoro anche dopo che era svenuto voleva tornare al lavoro perché voleva finire questo film da solo se Gin però non avesse voluto tornare al lavoro e Pompo avesse detto no non puoi riposarti non puoi restare in ospedale allora questo avrebbe visto Pompo una cattiva una brutta persona è più su livello spirituale però creare qualcosa richiede un sacco di energia quindi ho dovuto davvero voluto rappresentare questa cosa qui nell'etica lavorativa di Gin che è una grossa per curare appunto per dire che ha cercato in tutte le manive di giustificare l'overworking fondamentalmente sì perché quello che dice fondamentalmente sì non c'è niente che le leggi impediscono alle aziende di costringere le persone a lavorare però insomma dovreste farlo ecco se tenete le vostre opere scusami che è colpa del sistema di come è organizzata l'industria o la fa lui capito sei anche impegnato per far sì che pompo non passasse come cattiva nel far sovraffaticare il nostro Gin è lui che vuole ci ha fatto attenzione al far passare quest'idea qua nella maniera secondo lui più corretta possibile il problema è che anche è proprio la mentalità ad essere sbagliata perché tu non puoi andare a dire che un animatore se un animatore muore e vabbè l'ha voluto fa lui il problema è che l'industria è organizzata male e lui è morto perché è messa in questa maniera qui se non fosse messa in questa maniera qui lui non morirebbe poteva scegliersi un altro poteva scegliersi un altro lavoro poteva fare il salaryman come tutti gli altri e morire di qualcosa altro sempre di troppo lavoro ma in un altro modo di cistifeglia comunque cioè il problema è che io quando ho mandato il thread a Ito gli ho detto è interessante la risposta ora ovviamente il punto è che noi queste cose le sappiamo già però è sempre interessante comunque vedere più che altro la franchezza l'innocenza con cui ti dicono queste cose come se fossero cose accettabili cioè quello è il problema è proprio esatto è proprio un discorso di mentalità che che noi per esempio vediamo subito il marcio in una dichiarazione del genere perché appunto il nostro punto di vista è influenzato anche dal modo che abbiamo di vedere il lavoro qui in Italia per esempio dalla nostra cultura lavorativa in Italia come sei pesante due secondi fa hai detto che volevi prendere il vendito di cittadinanza per non lavorare e poi dice agli altri che non vogliono lavorare appunto io mi ci metto fra gli altri io non vorrei lavorare potessi evitarlo sarei il primo a farlo figlio mio il fatto è che se ti prendi il vendito di cittadinanza poi non ti danno la casa in affitto almeno se abiti a Palermo ma tanto non me la danno comunque la casa in affitto perché non la trovo quindi anche volendo vabbè lasciamo state cazzate comunque appunto ci teniamo ogni volta a risottolineare questi aspetti della cultura giapponese lavorativa in tutti gli ambiti non solo quello dell'animazione ricordiamo appunto non si parla soltanto degli anime questi problemi perché è comunque giusto vedere come dall'altra parte si siano abituati a cose del genere e addirittura poi vengano giustificate poi per carità nell'economia del film il comportamento di Jean e tutto quello che succede comunque è molto forte anche per lo spettatore occidentale come noi che certe cose dovrebbe rifiutarle però capi cioè il modo in cui viene fatto passare il suo attaccamento per il suo film l'attaccamento per il suo lavoro per la sua opera e tutto quanto è veramente tanto forte e anche molto empatico però non è un motivo per giustificarlo sì ma poi per esempio Jean è un personaggio che fin da subito diviene presentato come uno parecchio trasandato che ha queste borse enormi sotto gli occhi quindi è anche una cosa contestualizzata all'interno del film questo però giustamente non la rende è giusta ma infatti doveva fare scagnello di cognome non finire io non ce l'ho queste borse enormi sotto gli occhi vabbè poi chiedevano ho visto ho visto pompo recentemente e l'ho amato quali altri progetti sta lavorando che trova divertenti sì quali progetti ha avuto più più divertente a fare un sacco sono stati divertenti ma penso che il più divertente è pompo e non perché sto pubblicizzando questo testa di cazzo grazie 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 questo chiedeva al signore Rao ha visto appunto che in pompo la cinefila c'è questa sorta di apprezzamento non è la bellezza dei film del merda dei film di serie B e si chiedeva appunto quale fosse il suo film di serie B preferito grazie non sono sicuro che questi possano essere considerati come B-movie ma mi piacciono un sacco film horror come Night of the Living Dead la notte dei morti di Dante di Giorgio Romero appunto e altri film del cenere zombie appunto come diceva è stato diretto da Romero e mi piace un sacco di altri dei suoi film mi piace anche Paranormal Activity Brave Witch Project e un film di Peter Jackson che si chiama Brain Dead tanto Brain Dead non è quasi mai citato tra i film di serie B di Jackson quello che è più solitamente portato come esempio è Bad Time però è un filmone pure Brain Dead tra l'altro vuol dire che è molto ferrato diciamo nei B-movie ok quindi gli piace la merda come a Paolo sì sì ma più che altro avevo una domanda cioè quando ho letto questa domanda mi è venuta in mente appunto una domanda anche a me ma non so se tu possa avere la risposta a dubito è cioè la fascinazione per i B-movie deriva implicitamente dal manga oppure anche una cosa che ci ha voluto mettere in più i Rao perché non avendo letto il manga ovviamente non so se c'era tipo questa cosa anche lì non è una più parida idea però l'aspetto culturale secondo me l'ha inserito o almeno l'ha marcato così tanto lui perché come ti dicevo quando vedevo il film ci ho trovato un sacco di riferimenti a cose molto giapponesi come per esempio Determinati Wessler che sono famosi solo là come Stenzen e Vader e così via anche modi di fare proprio ma anche i riferimenti per esempio alla cultura americana molto marcali che in queste risposte io riesco a rivederci di più e a contestualizzare ok mi pare che fossero le ultime a cui ha risposto allora signori Rao la mia domanda è qual è il la scena la sua scena preferita che più di tutto l'ha influenzato o made with a thing you directed o che ha creato con insieme a uno staff di cui lei ha fatto da regista allora la scena finale di Young Guns è tutta in slow-mo e mi ha molto influenzato Young Guns sarebbe un film su Billy the Kid il famoso il pistolero il pistolero si nel in Call of Duty Paradox Spiral c'è una scena in cui ho lavorato con una scena di combattimento all'arma bianca in cui ho usato la camera 3D in quel periodo non c'erano molti film che usavano in questa maniera lo stile 3D quindi penso che abbia funzionato molto bene allora se volete se volete vedere la scena è questa qua adesso ve la apro se non ricordo male si parla dei primi anni 10 perché era uscito questo qua 2011 2012 aspetta cara no chi Paradox Spiral non è l'ultimo sto cercando eh non me lo ricordo perché io me lo ricordo con i numeri non con i nomi è il 5 2008 non ricordavo male allora era ancora più avanti 2008 si parla ma effettivamente lo diceva eh dove l'ha detto qui nel commento nel 2008 è una scena ah lì certo io ho visto soltanto il link non ho guardato so eh eh furbo lo chiamavano scaltro eh lo chiamavano cinfini è proprio storyboard aspetta vedete insomma cioè si vede siete un cazzo non si è più interessato sempre fatto da sempre fatto da lui aspetta ma questi sono disegni con la matita sulla carta eh sì ma non faceva tutto il computer no ah no ok mi pare che ce ne fosse un'ultima non aspetta scusa un secondo era una scena di Kano Kyo Kai God No Sinners Kano Kyo Kai numero 5 sì ah ok c'era questa ho adorato pompo mi stavo chiedendo fin da quando ho finito il film quanto sia stato difficile far sì che fosse un film di 90 minuti di durata è stato come armeggiare con un ago no come cucire in pratica negli anime ADR con cosa ADR sai che non lo so l'acronimo per cosa sta eh scelta un attimo perché sennò siamo più carico è quella roba comunque dove fanno il automatic dialogue recording ecco non mi veniva quello lì serve per per sincronizzare i dialoghi il doppiaggio con il con i flip flap del i lip flap del del video allora negli anime abbiamo l'ADR con il quale i doppiatori registrano i dialoghi e poi si va direttamente nel processo di editing si passa direttamente al processo di editing quindi durante il montaggio ho dovuto tagliare un suono di un dialogo per togliere dei frame e l'ho dovuto continuare a fare per arrivare alla durata ideale Jean Jean sei tu? c'è nulla di autobiografico no 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 zero proprio zero proprio e ok sono finite le domande a cui poi aveva risposto perché appunto è rimasto soltanto un'oretta e e buona quindi questa era la queste risposte lunghissime ci metto un sacco di tempo effettivamente vabbè ma devi mettere di mezzo l'inglese sì quanto tempo ci aveva messo a fare di stacco Deepol buttava dentro i kanji sperava che magicamente uscisse in una fase di senso compiuto in inglese penso che ci fosse il traduttore almeno voglio sperarvi sì allora caro mio dei cinque video che mi hai mandato da quale vuoi partire? mi ricordo neanche l'ordine in cui te li ho mandati quindi si può fare anche a caso andiamo a caso allora vediamo un po' che cosa ci offre il nostro youtube ovviamente non ti ho mandato i video alla 30 minuti non ti preoccupare te l'avrei bocciato allora intanto abbiamo quello su dress up darling sintesi svista vediamo un po' sta arrivando partiamo da questo? sì sì ho preso il primo che hai mandato partiamo da lì allora aspetta però ho trovato un video che dobbiamo guardarci dopo bleach un anime dimenticato da troppe persone ha dimenticato da chi? ma soprattutto ma magari forse hai dimenticato vabbè allora sintesi metti tu sì 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 no stavo un attimo leggendo perché c'è un enorme disclaimer che dice questa è solo una parodia creata dai fan e io so di avere paura del tipo di contenuto che possa essere sintesi svista quindi devo aspettarci un sacco di battute sulle zigze sarà tipo i video la gigak anime in 5 minuti ma non esagerare che lo sappiamo fake da vita che tipo di video faccio vediamo un po' questa è una parodia creata dai fan ma il rest of darling è una proprietà di Shinichi Fukuda e Cloverworks disponibilità su cancel tutti i diritti riservati grazie abbassa un po' il volume era quello che pensavo chi è il soggetto che si mette a parlare di bambole alla mia età la gente esce fa sport guarda film rimarrò solo per tutta la vita magari mi apre un server discord credo di avere azzeccato credo di avere azzeccato io sì hai azzeccato perfettamente e appena ho letto parodia ho iniziato a sentire sai il sì ma non me l'aspettavo next non un'interpretazione allora possiamo mettere tipo dobbiamo chiedere a Paolo di inserire nei sound alert sai tipo il suonio che fa che tipo cancelli fai uscire la croce esce il video e metti un altro il prossimo ci sono tutte quelle piccole cose professionali a cui non pensiamo minimamente no è che ci pensiamo nel momento in cui ci servirebbero e poi non lo facciamo mai e ci ripensiamo nel momento in cui servirebbero avanti un altro la polemica oddio ancora Spyper Family la polemica contro Spyper Family è un grande finiva lì vi aspetto che dica qualcosa di interessante sulla questione vediamo sentiamo un po' sentiamo che Spyx Family che appunto vi dicevo l'ho comprato tutto Spyx Family una volta sola dopo come Antrix Hunter partiamo bene mi è piaciuto da matti anche se non è esente secondo me da alcuni problemi è sessista è razzista sessualizza le bambine poi rendendo conto che più lo leggevo più mi stavo innamorando dei personaggi di come veniva raccontata la storia e dell'ambientazione allora stavo quando ti piace tanto una cosa cominci anche a guardare un po' tutto perché hai un'aspettativa alta e volume dopo volume magari no cerchi di trovare qualche pecca di solito guardo tutto sempre non penso abbia subito il rialzo ancora perché almeno io l'ho beccata 4,90 quindi non ha ancora beccato l'aumento che lo dovrebbe portare circa 5,25,30 ma non sono sicuro la cosa che a me fa incazzare è che una roba bella come questa sia prodotta in un volume che tu lo leggi una volta e poi non lo devi mai più toccare perché sennò lo sfaldi cioè io lo dico sempre la maggior parte dei prodotti di Planet Manga io quando li apro quando li apro e faccio così ho la sensazione che se vado oltre ma piano sto facendo vado oltre lo spacco è una cosa che mi dà un fastidio terribile prendi un scusa un attimo ma la premessa è che i manga li compri e poi li apri per leggerli e non li metti in libreria no io non lo sto capendo francamente anche perché cioè su un fumetto così my stream come Spyper Family che vuoi un'edizione di pregio o magari l'edizione economica è l'unica pensabile per una serie del genere ma infatti non ci hanno messo il rialzo è 4,90 che città cioè non è che è 4,90 perché è un'edizione tascabile per farla arrivare a quante più persone possibile perché è il prezzo minimo di Planet è che non ci hanno fatto il rialzo ah che questo senso quindi secondo te quando fanno il rialzo cambia l'edizione no stiamo a testa vabbè anche perché in realtà 4,90 è un prezzo che non trovi più neanche nei manga economici ci sono pochissime le serie che continuano ad essere vendute con questo rezzo qua solo quelle estremamente mainstream anche per Best Battle Family per me è una cosa abbastanza strana mi aspettavo che fosse fin da subito a 5,50 francamente si vede che non compro un manga da un sacco di tempo vabbè ormai si sono aumentati i prezzi di tutto ah io me li faccio mandare dalle case editrici che cazzo me ne frega mi li manda manga io tutti devi darli a me e non me li porti quando te lo portavo non ci siamo più visti non me l'hai ricordato a Gadda la prossima volta però per dirti no Jan Killing un'edizione normalissima da Edicola infatti ha venduto in quel circuito là a 4,50 adesso costa 5,50 ok non si vede il prezzo no vabbè ma io me lo ricordo con Sked Dance che l'ho cominciato a 3,90 e l'ultimo volume era 7 cioè nel senso sono benissimo ma era questa la polemica queste penso sia soltanto delle sue opinioni relativamente all'edizione non penso che sia una polemica io spero che non siano questi problemi no è perché parla proprio di polemica non di problemi quindi vabbè andiamo avanti non capisco perché mi sta abbassando la risoluzione da solo ok che costa di più faccio così questa questo tanto qua è volato tutto non succede niente è cheat è volato tutto sì ma poi ce l'ha detto da solo costa di più che cazzo che l'edizione migliore ah sì ah perché la qualità si paga boh non so vedi un po' te vabbè la storia di Spikes Family è la storia del protagonista che è Twilight che è questa spia che deve per un'operazione precisa avvicinare un personaggio per specifico e per farlo deve avere una bambina tutto per fare spoiler da un bambino e una moglie e far sì di essere poi invitato a casa tramite i risultati meravigliosi che la bambina avrà e poi poter prendere informazioni o addirittura assassinarlo in modo tale da compiere il suo il suo ruolo devo dire che la storia così come presupposto mi sembrava un po' campata un po' per l'aria ma l'intercedere all'inizio con quelli che sono le relazioni con il suo lavoro con quello che sono il mondo ma soprattutto con lei sapete che io odio i bambini negli anime e manga se non fanno i bambini e lei fa la bambina l'ho amato particolarmente una che c'è po' di si si scoppiata su tiktok mi ha fatto incazzare una bambina particolare ok grazie perché hai gente che scrive ora non mi ricordo che come era uscita ragazzi ma che vi dice no basta la sessualizzazione delle bambine all'interno delle opere anime e manga allora sapete che io sono il paladino della luce su ste cose qua io sapete che sono uno che è intollerante alle loli che non sopporta la sensualizzazione all'inverosimile soprattutto se sono infantili o che ricordino ma infatti una delle serie del film mi spoglie a rama che è una assurante sessualizzazione che cazzo ha letto dove è la sessualizzazione della bambina solo perché allora posso soltanto dire che non ha letto un cazzo perché l'ha detto con l'anime quindi non c'entrava il manga però vabbè era referita era l'animanga era l'animanga chiedo scusa chiedo scusa a fine del primo volume vi faccio vedere la scena no spoiler dove c'è scritto ah questa è stata la sensualizzazione devo prendere il primo volume però vi faccio vedere la scena perché se no sembro io faccio vedere questa scena no ragazzi magari sono io che sono uno che ha le travegoli o che vede io avrei fatto qualche taglio in editing comunque Sergio se stai guardando tagliare la scena incriminata è questa lui che è distrutto va a dormire sul divano e lei il suo nuovo papà aspetta va lì e ci dormi abbracciata io me la ricordavo colorata questa scena me la ricordavo poi in 16 noni no no ma l'hanno colorata i fan Italo i fansubber l'hanno colorata ah wow no perché poi mi ricordavo si muoveva pure addirittura strano strano ma secondo me hai visto qualcosa di finto cosa di tarocco ma può essere può essere un fake comunque a parte giusto per puntualizzare perché bisogna dire qualcosa su sta cosa in realtà mi ricordavo che la scena incriminata era quella nel quella dove la solleva era quella la scena incriminata vabbè è stata criticata anche questa però su twitter non su tiktok vabbè comunque nel senso giusto per fare per dire due parole la vede e si spaventa cosa fai perché lui è una spia e tutto gli dormi abbracciata è un abbraccio cioè questa persona che ha fatto il tiktok ha avuto una famiglia non mi interessa genitore 1 genitore 2 genitore 20 non me ne frega un cazzo ha mai avuto una famiglia immagina abbracciare i figli l'amore paterno o materno credo di no stranamente è la stessa critica che gli facevano tutti sotto il tiktok allora io non lo so come mi chiamo non lo so mi chiamo sono vanna marchi prendete il sale e chiamate il numero è follia è follia va bene incazzarsi va benissimo ma sono cose giuste andate a rompere i coglioni ad altra roba ma non andate a rompere le palle cagate Spikes Family mi è piaciuto tantissimo per poi l'evoluzione quindi l'incremento e le varie caratteristiche quali sono i problemi? la cosa che forse mi ha un limitino invece un po' lasciato perplesso è un determinato focus su per ora perché comunque ragazzi sono sette volumi per ora credo che la storia sarà abbastanza lunga ancora sono l'introduzione di tanti personaggi in questo momento ci sono davvero tanti personaggi ogni volume è un'introduzione di un personaggio nuovo tant'è che infatti su ogni volume senza fare spoiler però avete un personaggio nuovo un cane prendono anche il cane in copertina di un personaggio nuovo che bello è un cane bellissimo ragazzi sono sette personaggi anche lui col passaggio tragico anche lui col passaggio tragico sono sette diversi che poi alcuni sono già ripresi nei primi volumi vengono quelli proposti per tenere il fuoco sette personaggi nuovi uno a volume Italo immagina cioè credibile quante so dieci capitoli a personaggio ok strano eh non succede mai nessun manga non è che di Mosley in due capitoli passaggio quando personaggi è una roba davvero divertentissima seppur in alcune situazioni molto seria ma è molto divertente c'è forse caro amico tu ti lamenti di sette personaggi presentati in sette volumi io ti farei vedere il primo episodio di Q in cui presentano un cast di diciotto personaggi e lo presentano letteralmente nome e cognome sì questo se si vede idol master impazzito la fine madonna madonna davvero cioè posso anche considerarla come critica però non ha spiegato perché debba esserlo cioè perché è un problema che inseriscono così tanti personaggi non sono approfonditi bene sono inseriti male non c'è una vera utilità nel loro inserimento non hanno una caratterizzazione servono soltanto a far numero tipo le pedine sacrificabili di coso di osama game perché poi a me in realtà la maggior parte dei personaggi inseriti sembrano abbastanza necessari a far andare avanti la storia come dice magico gli farei vedere Heike non mi ricordo nemmeno io tutti i personaggi di Heike fai a leggere baccaro vabbè vabbè un po' per ora per approfondire personaggi come ad esempio la moglie la moglie sembra lasciata un po' così sembra buttata un po' lì che è un po' le proprio quando in verità anche lei ha un background mica da ridere quindi l'ho amato alla follia mi sta piacendo tantissimo la dolcezza dei personaggi della bambina lui che comunque è una spia super comica la moglie che impara a fare la madre che ama veramente all'inverosimile questa famiglia froger un po' buttata lo sta dicendo pure lui la scuola ecco avevo paura che il sistema scolastico mi avrebbe annoiato in che senso la figura della madre non è approfondita sta dicendo pure lui che ci sono tantissime scene in cui fanno vedere una sua evoluzione caratteriale o mettono in mostra quelli che sono quelle che ha il suo punto di vista dato appunto dal suo passato tragico a me non sembra affatto che sia un personaggio lasciato lì sullo sfondo senza essere troppo approfondito poi lo vedete anche voi anime watcher che appunto sta venendo inserita adesso che nelle puntate precedenti lei avrà un forte focus e poi soprattutto la cosa di Spider Family è che è un racconto corale cioè non è una storia che si concentra su un personaggio e basta mettendo il focus solo su di lui ma mentre racconta la vita e il vissuto di un personaggio approfondisce anche un altro perché per esempio noi quando lo vediamo nella prima puntata Forger che va a cercare la bambina e poi tutto il rapporto con loro assistiamo non solo all'approfondimento della bambina ma anche all'approfondimento di Forger quindi ma domanda importantissima ma la backstory di Yor l'hanno già fatta vedere il manga? sì allora niente mi spiace Angelo nemmeno quella poteva essere la giustificazione sai di solito se un personaggio non c'è la backstory allora non è approfondito per la nostra cara community ma l'ha detto pure cioè l'ha detto pure del passato disastrato di lei quindi dovevi vedere se ti eravano fatto come se ti eravano mostrato vabbè è il magazine ok andiamo avanti con le interazioni tra bambini è una delle cose più interessanti perché il secondo genito è la chiave del vostro conflitto interiore perché ve lo vendono come il figlio comunque di un dittatore quindi non stavo capendo il discorso pensavo che fosse un discorso generale sulla famiglia e io dal primo genito mi stavo sentendo attaccato oggi oggi non ci sto proprio di dare le colpe del padre ai figli ma in verità quindi io davvero io davvero lo consiglio perché quella parte scolastica fatta da bambini così comunque di caratura familiare e alte è fantastica e il secondo genito è secondo me uno dei personaggi che mi piace di più un po' come era Daida in Osama Ranking cioè però nel senso avevo quella sensazione lì mi piace da Matti quindi io veramente se non l'avete letto ve lo consiglio tantissimo ripeto purtroppo lo trovate ancora a 4,90 mi auguro che non abbia ancora subito sovrapprezzo purtroppo si sfaldano quindi teneteli a modo perché Planet Manga ha questo problema qua però ecco anche se oppure guardatevi l'anime è gratis come tutti gli anime mi piace James Bond non mi piacciono quel tipo di storie thriller robe varie è una roba che comunque ma quello costa 5,50 non 4,90 è giusto continuo a leggere con abilità veramente va bene grazie per il video che si chiama la polemica contro Spyper Family dove non c'era nessuna polemica contro Spyper Family next cosa abbiamo poi i problemi che non sono problemi il Kirion il Kirion il Kirion che ci parla di Osama Game giusto per vediamo che cosa si aspetta che verrà annunciato ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale ciao Kirion e oggi andremo a vedere quelli che per me sono 5 i probabili annunci da fare al Napoli Comicon 2022 che si terrà da questo venerdì fino al lunedì e noi non ci siamo prima di andare al sodo vi ricordo che questi 5 titoli li approfondirò in live su Twitch oggi pomeriggio alle 16 quindi se ancora non mi seguite sul canale mi raccomando venite potete anche abbonarvi gratuitamente se avete un abbonamento Amazon Prime ma lo spottone pure nei video su YouTube si vede che non li guardi i video di chi c'è su YouTube ma parla di manga che cazzo devo guardare io scusa però stacca troia dai Kirion già sei tipo il money grabber incarnato su tutti i social poi su YouTube ti fanno lo sponsor per la sub su Twitch infatti io quando guardo un video di Kirion parto dal primo minuto però potevi dire che saltavo Kirion dai uno dei titoli che più mi sta appassionando da quello che ho visto anche se non ho letto molto perché appunto quando ci sono titoli che spero vengano annunciati ovviamente me ne tengo un pochino alla larga perché vorrei poi leggerli in cartaceo sto parlando di un titolo Shueisha ovvero Dan Da Dan che deve leggere perché non ce lo ricordo commedia horror soprannaturale di cui per ora sono usciti quattro volumi dal 2021 un'immaginetta che va ad un buon ritmo per gli standard di Nagaka e questa è la trama non l'ho voluto non l'ho detto io per non sembrare se al solito rompi i coglioni su ste cose c'è pensavo a te quindi vabbè tranquillo quando lo fai tu lo faccio io è per questo che faccio le rapizie è un bel manga di un assistente di Fujimoto quello di Puffer Punch e Chinso Man e è molto sulla falsa riga di quelle storie lì quindi molto edgy molto carica di cose adulte però anche molto trash sotto un certo punto di vista nel primo capitolo ci sono degli alieni che si vogliono scopare la tizia con un cazzo cibernetico beh che dire che dire interessante parte proprio tutto quanto dalla premessa che il sovrannaturale non esiste poi si rendono conto che il sovrannaturale esiste e quindi inizia poi la storia ok dan da da che è proprio il titolo ma Kenta Kakura è un ragazzo vittima di atti di bullismo un giorno il giovane inizia a dialogare per caso con la sua compagna di classe bella la trama di Millic lui è un fanatico dell'occulto mentre lei crede soltanto nei fantasmi i due per una scommessa decidono di recarsi separatamente in zone associate sia all'occulto che al soprannaturale visitando i rispettivi luoghi entrambi si devono ricredere inizia così la loro avventura c'è poi un manga da cui è stato tratto l'anime che più oa assolutamente alla follia perché deve essere complicato perché è bello cosa sto parlando mi ha parlato oggi alle 4 in live scusa scusa mi dimentico sempre che ormai i video sono inutili e sono fatti solo in funzione delle live sono fatti in funzione delle live e il per poterci mettere appunto il bannerino pubblicitario per avere quei 70 euro all'anno quando va bene con youtube li fa quasi al mese addirittura minchie si parla proprio di uno stipendio vedi quasi comparabile a quello che fa il call center mamma mia che vita di merda che facciamo vita di merda veramente cioè non mi fa non mi fa pensare quanto dobbiamo prendere all'ora e quanto invece prendiamo all'ora quando facciamo queste cose non mi fa pensare sentiamo sentiamo perché chido piace così tanto osama game c'è un pochino saprà già di cosa sto parlando ovvero osama ranking ah no qua l'ha detto giusto pubblicato dalla enter brain e disegnato sta leggendo ci mancava musica ci va male sulla rivista comic beam al momento è ancora in corso e ci sono 13 volumi mentre per quanto riguarda l'anime è finita la prima bellissima stagione che vi consiglio di recuperare assolutamente su Crunchyroll il protagonista di questa storia si chiama io l'avevo vista tu principe sordo e senza poteri che non riesce neanche a brandire una spada giocattolo essendo il primo genito sogna di diventare il più grande del mondo ma molte persone spavano di lui alle sue spalle dicendo che è un buono o nulla e che non potrà mai essere un re Boggi fa allora amicizia con un'ombra di nome Kage che in qualche modo lo capisce molto bene Kage è l'unico membro sopravvissuto di un clan di assassini quasi del tutto spazzato via non più un assassino ora continua a vivere rubando la storia segue così la crescita di Boggi mentre incontra diverse persone nella sua vita a partire dal fatidico incontro con l'ombra naturalmente adesso vi sto solamente leggendo la trama che trovo su animeclick.it passate dai miei amici e fate visita al miglior database italiano su anime e manga ma se venite live da me che hai fatto a fare il video quando le classifiche di vendita giapponesi è Aono Apo ovvero Blue Box sempre della Shueisha di Koji questo assicurale è molto bene sia ai disegni che alla sceneggiatura ed è uno shonen scolastico sportivo e sentimentale abaccia ragazzi quanti generi ci sta shonen sentimentale scolastico sportivo no 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 c'è solo shonen io sono tutti sotto il genere scusa scusa sbagliate colpa mia su sti sceni dello shonen ti ha fatto ridere che c'è così tanti generi sto vabbè mi fa ridere il fatto che tante persone potrebbero non capire che stiamo scherzando vabbè c'è ciò che c'è ma questo è il nostro buonissimo oh guarda guarda lui ha preso la pallonata in faccia ah ah di cui sono usciti quattro volumi dal 2021 Taiki Inomata è uno studente del terzo anno delle medie il quale frequenta la Eimei Academy una scuola con l'importante del genere shonen è che li inglova tutti il ragazzo fa parte della squadra di badminton maschile ed è innamorato della giocatrice di basket Chinatsu Kano una ragazza che si allena ogni mattina in palestra un giorno di primavera per uno strano scherzo del destino la ragazza inizia a vivere a casa di Taiki volendo diventare un degno compagno per Chinatsu il giovane insegue il suo stesso sogno partecipare alle nazionali iniziando ad allenarsi più duramente tutto per costruire una forte relazione con la sua nuova coinquilina per quanto riguarda il prossimo titolo sono sicuro che una voglia arriverà in Italia ragazzi se siete innamorati di una ragazza ti mostrate di essere un vero uomo eh come ci insegna Dance Dance Dancer non l'ho ancora visto Gianni come fa sta battuta falla quando l'ho vista oh con tutte le volte che fai le battute sulle cose che non vedo io scusa fammi pareggiare voglio essere partecipe non so come te fammi pareggiare ogni tanto il conto tanto lo sappiamo tutti benissimo che fra due giorni tu stai quattro volte più avanti di me su tutto quindi per quella settimana in cui io inizio di buona lena lasciami fare un pochino questa notte cinese e caranci basta basta ti smetti di andare a baciare cinese basta eh ma mi piace anche se adesso ho venduto i prezzi no quei maledetti hanno alzato i prezzi ma i ravioli costano 3,50 ah faccia madonna vanno in bancarotta ti mandano con i soldi di youtube non ci campi più da quando mai c'è campato da è questo il momento perché effettivamente è uscito un solo volume ma io punto già all'annuncio di un'acquisizione sto parlando di hashtag DRCL midnight children di Shinichi Sakamoto già apprezzatissimo autore di opere meravigliose come innocent e ancora di più il re di vivo nel senso che è appena stato di stampato quindi sta godendo di una nuova giovinezza mi raccomando compratelo con il mio link affilato a amazon veramente veramente eccezionale e che vi consiglio non l'ha detto neanche una volta finora a tutti quanti come dicevo l'opera conta di un solo volume per ora è ancora in corso ovviamente pubblicata su Grand Jump della Shuesha ed è tratta da un romanzo il famosissimo Dracula di Bram Stoker quindi non c'è un gran che di trama se non appunto quella che ricalca il famosissimo romanzo di Bram Stoker che poi è stato declinato in tutti i modi quindi sia in altri romanzi in altri libri in altre serie tv film fumetti e chi più ne ha più ne metta l'ultimo titolo che mi è stato molto mi fa piacere che abbia consigliato un manga con un solo volume che non ha letto perché l'autore è un bravo disegnatore che poi bravo fumettista è un'altra cosa eh francamente che cosa eh no scusa non ho battute da fare stai pensando no è si parla di manga quindi non ho battute da fare non c'è non c'è stato il mio non ho avuto possibilità di fare il solito remark comico ok dai io posso capire la fiducia di un autore però è uscito un volume solo cioè davvero non c'è nient'altro nel panorama di manga che magari gli interessava di più di sta cosa vabbè ma ne scelte 5 mi cade di tutti ma sì però boh davanti della locanda di zio aristofano e che ancora devo leggere però effettivamente perché anche di questo preferirei direttamente il cartaceo è Takopi no Genzai sempre della Shueisha Taizan 5 è l'autore o autrice ed è uno shonen drammatico di fantascienza psicologico e slice of life anche questo è concluso perché sono solamente due volumi pubblicati tra il 2021 e il 2022 su Shonen Jump Plus Takopi proviene dal pianeta della felicità il suo scopo sulla terra è quello di diffondere la gioia durante il suo cammino incontra Shizuka una ragazza che non sorride mai sembra che abbia problemi a scuola e con gli amici l'ingenuo Takopi dovrà affrontare qualcosa di completamente nuovo per lui dalla trama potrebbe anche non sembrare granché ma vi assicuro che ha dei risvolti davvero interessanti e tu come lo sai come l'hai letto Kiryu come l'hai letto lui lo sa perché sta nella classifica dei manga più venduti quindi deve essere per forza bello perché questo è un manga che effettivamente avevo notato già da un po' di tempo perché appunto a marzo era entrato nella classifica dei più venduti mi pare ho visto anche io qualche volta la copertina quindi vuol dire che è abbastanza discusso però non ne sentivo parlata a nessuno e non mi sembrava ci fossero annunci relativi con 2022 mi raccomando venite alle 16 oggi su twitch per avere un'analisi più approfondita per vedere qualche altra tavola in più e magari leggere tra l'altro abbiamo pure più spettatori di te qui ooooo bubu vabbè ma è una cosa che succede sempre ah c'è suo libro sapevi che ha scritto un libro si chiama si e non mi è ancora arrivato ma come ma non mi arriva più ormai sono qui sotto in descrizione vabbè ci sono i link in descrizione grazie Kirio è stato un piacere prossimo vediamo se trovo qualcosa di più discutibile è che almeno stavolta il nostro buon Kirion si ha detto giusto osama ranking e non osama game vabbè ma te lo ripeto cioè stavo leggendo perché perché mi hai mandato questo perché perché no sono otto minuti non lo vuoi vedere vabbè vediamo perché tipo cosa ne penso a Stefano Lovaghi di caverna di Platone può essere che magari fare nel video qualcosa ne penso di anime tea time se diceva questo ma chi ci si incula a noi per farci cosa ne penso di ma è spesso qua ci saluta sempre sì ho capito ma c'è vabbè vediamo ciao Stef ci vorrebbe ciao ragazzi io sono Stefano Anaghi 97 oggi video su cosa ne penso di caverna di Platone in questo video andrò a dire su cosa ne penso di caverna di Platone inoltre oltre a questo è anche una sorte di video speciale per i primi due anni del mitico caverna di Platone su Twitch cambia caverna e cominciamo col video caverna di Platone è senza dubbio uno degli ottimi streamer parlando di anime e manga migliore in assoluto in tutta Italia è uno dei notti di streamer i nostri durante il sabato della pizza del sabato mi diverto moltissimo la prima volta che incontrai caverna non avenne su Twitch ma bensì su YouTube durante il video di Kirio all'inizio del 2020 si abbassate il volume ragazzi che parla di anime perché continuate a dire di anime e manga calmo 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 è tutto bene è tutto a posto non lo supporto sta cosa calmo ma perché continuano con questa narrativa che quelli parlano di anime e manga e poi il prime video chiama il mangaka fa anime contro manga su Twitch ma so cazzi di Amazon Prime se si trova con 100 spettatori in live non so cazzi non è che noi faremmo meglio idolo scusa ma concedi accetto questa sfiga adesso chiamo Bezos e gli chiedo di darci uno spazio sul canale per animo certo vabbè comunque sono profondamente offreo così magari accetto sono profondamente offreo del 2020 in cui successivamente verrà farta ma soltanto in versione digitale invece su Twitch il primo incontro avenne alla fine del novembre del 2020 in cui gli consigliare caverna il video della top di di mangasone alla fine che poi lui lo vide alla fine contento del video mi fece i complimenti successivamente su Instagram invece il suo primo contatto al mio video fu invece durante la reaction al vecchio video della top 10 mangasone in cui mentre lui mangiava la pizza guardò il video e alla fine non lo buttò giù la top perché aveva visto la scena in cui lanciai il caro no go e si è messo a ridere e poi dopo mi fece anche i complimenti che era un'ottima top successivamente lui reattò altri miei video come ad esempio il nuovo video della top 10 mangasone e il nuovo video della top 10 mangasane ma quello che mi tengo più soddisfatto è molto anche contento di lui mi fa morire che parla di eventi che sono successi l'anno scorso come se fossero accaduti dieci anni fa che c'era anche Masullo in cui quello stesso giorno ero anche in live da Kirio come ospite durante la live con i sub che durante la reaction oltre che erano anche molto contenti rimasero anche molto stupiti specialmente 5 agosto 1980 che era realmente esistita che si traftava della Renault Alpine A310 costruita tra gli anni 70 e 80 di cui si divertirono tutte queste cose ma si fa non c'era la macchina di misato ma come mi ricordo di che colore è la macchina di misato sono tutte belle e la blu veno nei build mi pare sia blu nei film nella serie nel rossa è quella di Freeran a proposito di Freeran lei gambe top il mio meme preferito di Caverna è senza dubbio il Sommabu quando Caverna prende in giro lo sommobuta che secondo me è il meme più riuscito ma la cosa strana per me è che durante l'Oscar di Twitch di Caverna è che né Sommabu né 21 anni fa ha vinto ha vinto invece il Alexa Chiama è morto Michele Mari no no proprio Michele ok strano meme ma va bene raga questo è tipo l'eye catch di Stefano Rocchi lo metterò in il video è editing 100-100 raga fateci sapere in chat qual è il meme di anime titan che preferite adesso sono curioso per me da ieri è cultura oratoria cultura oratoria è simpatico dicevo piacere la sua cultura oratoria oh il gatto palo se dovessi scegliere il mio riscatto preferito è senza dubbio quando lui imita il 21 anni fa ma se dovessi scegliere di quelle vecchie senza dubbio è quello dello sfogarfi in cui lui prendeva il pupazzo di Garfin e si sfogava lanciando a destra manca a sinistra quello è senza dubbio era il mio riscatto ti piace la violenza Stefano no no assolutamente no la reaction al video della top manga di caverna è senza dubbio raga paolo non è un meme è uno dei testi di arivedità specialmente perché a differenza degli altri youtube streamer mentre guardavano il video di caverna che stavano sempre a commentare discutere eccetera io ero l'unico come la vuoi fare la reaction parlava di Dai la grande avventura è andato a controllare in diretta video sul sito che se era tutto giusto dell'anno esatto in cui uscì Dai chi cazzo se ne poteva cosa importantissima stefan capisci perché si ricorda tutto e glielo strappai in faccia di cui tra l'altro perché ha sbagliato la data di dire con questo ma se poi si strappai con questo mi ha cercato di vedere chainsaw man strappato prima si parlava di di piaccia chainsaw man nooooo un uomo distrutto dallo strappo di uno dei suoi manga preferiti che è chainsaw man che tra l'altro non è manco finito invece quel furbone di Kirio si è reactato il video in cui andavo a reactare il video della top 10 manga di caverna e venne che è reacto stefano che è alto caverna ma poi alla fine si è sbagliato perché sono bravo io e adesso per le le comunque io farei notare 4 per 40 su pampling con i cecchini persino nei suoi si fa pubblicità il live lui che fa la reaction della reaction della reaction e comunque c'è lo spade il cazzo di pap Kirio Vaz è un grande estimatore è un meme ormai morto che non torna più un sacco di tempo diciamo che sta morendo che sta morendo vabbè italo che parlare con Gias non è un meme italo che parlare con Gias raga è la mia vita ragazzo non ridicolizzatela così non farò battute sulla tua vita andiamo bello dovessi scegliere il momento che mi ha fatto divertire di caverna la prima è quella in cui a capodanno si è messo in testa insieme a cavaliere e poi si è preso il petardo e ha spaccato Berserk in diretta credevate che su questo canale ci fosse qualcosa di sacro credevate che ci fosse qualcosa di sacro beh io vi dimostro che non c'è niente di sacro qui nemmeno Osuk no in casa come mi dicciolo no ragazzi non fate queste cose a casa perché è molto pericoloso si vede che non è un napoletano senza spina dorsale la bomba di maratona poteva essere un grosso problema a farla esplodere dentro una casa dove per un napoletano vero beh per un napoletano con tutte le dita si effettivamente difficile trovarli scusa lecchina senza spina dorsale è persa spina dorsale no cazzo porca puttana no angelo vedi cosa ci manca a noi per fare questi numeri salviamolo salviamolo paolo che fa così che altro può fare se non paolo mi sto soccando nell'orecchio non serve vedi vedi la differenza uno c'ha 1150 sub e l'altro ce n'ha 150 qual è la differenza fra noi e loro oh magari è bravo magari ok questa può essere una però quella vera qual è? eh e io a te lo chiedo ah cioè vuoi sapere da me io il cazzo ne so mi scusi se no non c'ho gli 150 abbonati c'ho la mia moglie 150 hai ragione andiamo il soffio nel culo eccolo ci manca il soffio nel culo è serpito ragazzi si è salvato oppure dove hai imitato me mentre guardava il video di culo perché aveva visto il mio commento ottimo video che hai fatto bravissimo culo Stefano direbbe così ottimo video che hai fatto culo bravo se dovessi dire la mia miglior reaction alla top video di altrui senza dubbio è quella della reazione di Jack 98 della sua romeo 75 twin spark di cui tra l'altro i miei alfa romeo preferiti sono la 33 la 146 la 147 ma vabbè ognuno ha i suoi gusti di cui tra l'altro caverna a fine video ando a strappare monster prima edizione perché finiscono sempre coloro che strappano cose è quello la pil che ci hanno salve veri temerari come state volevo ringraziare Stefano Roghi per aver scattato il 20 anni fa e visto che mi è piaciuto molto quella mochila perché devo dire che un'ora fa quando lavorerei per l'edizione italiana di Negoti Svangelio il manga BOSO quello di caverna che imita Cannarzi è un meme che ha invecchiato molto male lasciate un bel like se vi è piaciuto il video inoltre nella mia pagina Instagram cliccate su segui inoltre in descrizione grazie Stefano lascia gli like fatto grazie Stefano allora ti avanti vai quanti ce ne mancano ancora la prossima volta li controllo i video perché me li mandi sono mandati mentre stavamo in live è un po' difficile ah no questo è a lungo si oddio 18 minuti di Ronin veramente non lo so c'aveva il titolo molto profondo ed intimo 18 minuti di Ronin adesso c'è c'è quell'altro avanti scusa Ronin ma non ce la posso fare cosa rappresenta ah questo è quello su Bleach un'opera dimenticata da molti si 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 non è che l'hanno caricata su Amazon Prime e se l'ha vista pure il cugino del mio panettiere a Paolo Solazzo piace questo elemento vediamo che cosa rappresenta per loro Bleach ecco se c'era secondo me già si è incazzato perché non lo so non sai com'è Paolo che basta vabbè ok che Paolo si incazza per niente però pensavo ah da ci dice ci dice riassunto video di Ronin ho aperto un nuovo canale ok grazie per avermi risparmiato 18 minuti di sofferenza mince 18 minuti di sta cosa è un'altra è una nuova era Italo devi capire che ci vuoi tempo per assimilarla si la comunicazione migliore è dire alle persone quello che potresti dire in un secondo in 19 minuti 18 18 18 cius ma veramente ancora c'è gente che fa le intro in questo modo nel 2022 ma non te lo ricordi sto canale già avevamo già raggito parecchie volte data channel ma quelli che fecero il video di Dragon Ball gli animatori si si quelli che fecero il video su come funziona l'animazione noi dicevamo che praticamente il 80% il video era sbagliato lo rifacciamo non l'hanno mai rifatto fortunatamente avevano anche commentato in maniera molto poco piccata tutta la faccenda che avevano dovuto rimuovere il video perché delle persone orribili avevano fatto notare che c'erano degli piccoli errori che persone orribili quelle che ti dicono che stai facendo disinformazione quando stai convinto di fare informazione che vergogna no io guarda ero soltanto sorpreso che appunto ancora nel 2022 si facessero le intro dei video e dei canali con i mashup degli anime dove si picchiano con scene prese a caso senza un minimo di criterio di montaggio con la musica ma tu che ne puoi sapere questi ci lavorano con queste cose grafici professionisti ma infatti che ne posso sapere io che per fortuna ho lasciato youtube cazzo ne capisco io di youtube vabbè atti t casi cibulli assolutamente ragazzi qui vedete channel con un nuovo video oggi portiamo un video che volevamo portare di una serie già proposta in passato con qualche video singolo ovvero delle constatazioni personali riguardo bleach e perché è il nostro preferito dei big free ovviamente parleremo in generale dell'opera quelle cose che ci piacciono non ci piacciono è giusto una parlata così generale una chiacchierata non prendetela come analisi vera e propria dell'opera ma appunto cosa ci piace e cosa rappresenta per noi detto questo possiamo non devo scrivere in breve la trama di bleach tratta del 15enne liceale Ichiko Kurosaki capace di vedere gli spiriti al suo incontro con Kuchiki Rukia una Shinigami dio della morte la sua vita viene stravolta ella dona i suoi poteri al ragazzo durante uno scontro con uno spirito malvagio chiamato Hollow a causa di una grave ferita rendendolo temporaneamente un dio della morte e cominciando la storia che ormai conosciamo con le sue battaglie incredibili momenti memorabili emozionanti tradimenti sotterfugi e chi ne ha più ne metta bleach c'era dimenzi di bleach nel 2001 e venne adattato nel 2004 da studio Pierrot la trasmissione di tv Tokyo non arrivò mai da noi tramite portali come la televisione o lo streaming portali legali si intende al tempo forse nemmeno affermati ma arrivò quasi tutta tramite web se non tutta dalla parte non legale bleach da noi è arrivato fruibile come manga nel 2006 cosa che un po' lo ha lasciato indietro nel nostro paese ma che poi si è addentrato nella nostra vita tramite youtube principalmente perché si ancora si trovano gli anime su youtube ma al tempo ce n'erano una marea attorno al 2007-2009 per chi è stato su internet in quel periodo si ricorderà sicuramente tutte le cose che giravano su youtube la storia di bleach così come le tematiche sono di stampo battlezone senza pretese da prendere alla leggera per adolescenti e ragazzi riscritto però ci sono le tematiche battlezone ricordiamoci si si è leggermente diversa a quelle solite il protagonista è sia un ragazzo con un enorme potenziale ma che a differenza di altri protagonisti è già quasi formato non è uno sprovveduto uno sciocco è un ragazzo con più problematiche di altri anche ma che c'è torsigimo non ti ricordi quello che abbiamo ascoltato al garda con e vangheri non ha cambiato una narrativa a shone hai ragione scusa cazzo uguale come tutti solo più speciale per il funzionamento e perché cazzo mi dice riparti allora no non ho mai detto riparti non è mai uscito dalla mia bocca e perché il gigotore dovrebbe essere un personaggio già formato è un liceale come tutti gli altri che non è già formato anzi si forma attraverso le battaglie che ha nella sé cioè proprio mi sembra una cosa strana partire dicendo che Bleach è atipico per il genere visto che è l'esatto contrario forse perché Ichiko non c'ha 12 anni ma c'è n'ha 15 quindi è più grande e quindi dice non c'ha i problemi non c'ha un passato di un tiriste ma ce l'ha c'ha 6 problemi che il passato triste perché c'ha un brutto rapporto con il padre la madre è morta lui è orfano di madre ti pare che questo non è un passato triste te l'ha fatta vedere la backstory si al cazzo si è proprio nell'anime che deve uscire adesso la backstory totale di Ichiko perché poi ovviamente non è che Kubo l'aveva pensata tutta in un attimo ma allora allora c'era cioè lo vedi è fatto e finito non ci voglio nemmeno provare ad essere divertenti è bellissimo quando riesci a rispondere e io vorrei dire ogni tanto qualcosa di divertente queste cose perché giustamente dobbiamo fare anche noi del contenuto sul contenuto che stiamo guardando però mi viene neanche più ormai poverino quello togliendo quell'effetto copia e incolla Bleach è un'opera che viene messa tantissimo in discussione dalla gente tra chi l'erogia e chi venica ma perché accade così tanto di solito molti tendono a fare di tutta l'erba un fascio non concentrandosi sulle tematiche o elementi che sono all'interno dell'opera apprezzabili guarda le tematiche le tematiche di Bleach queste qua giù no tu cazzo non si vede stavo muoendo ah si le tematiche di Bleach si su questo posso essere d'accordo con te o meno come lo fa un po' Radimonslayer da più o meno lo stesso effetto il che porta a dare un giudizio troppo diretto o per semplice sentito dire non seguendo un vero gusto personale sia chiaro non neghiamo che Bleach non abbia problemi che lo rendono banale ma ci sono anche tante cose che non fanno risaltare solo quella parte ma che gli danno un sacco di valore almeno ai nostri occhi Bleach ha un appeal per noi che è principalmente legato allo stile di cubo per i personaggi che sia quello fumettistico o riproposto fedelmente dallo studio Pierrot graficamente parlando i volti dei personaggi sono diventati sempre meglio partendo un po' sproporzionati ma comunque puliti tralasciando gli sfondi è completamente l'artbook ultimamente parlando cubo si è affermato come un illustratore è un fumetto regattissimo nell'anime Masashikudo come sta parlando dell'anime sta parlando del manga con tutte e due perché l'anime c'è animanga animanga ritorniamo lì che cioè che cosa devo dire nulla andiamo avanti non diciamo niente facciamo sempre le solite cose facciamo una cosa facciamo un nuovo giochino facciamo un gioco nuovo in questo c'ho il vino no non ce la faccio devo tornare a lavorare dopo siccome ci mancano sette minuti più o meno per sette minuti faremo critiche soltanto su cose che non abbiamo mai criticato prima in video di questo tipo speriamo di riuscire a farcela è questo il giochino male che va stiamo zitti per sette minuti e soffriamo dentro come dei cani vai ci stai vai ci sto è pressoché identico un altro grosso punto a favore è il fatto che sia molto più dark e tenendo proprio la tematica della storia esorcizza quella non la puoi fare non la puoi fare l'abbiamo già fatto però a volte si calca su questa cosa in modo troppo cupo troppo depressivo invece qui ti spezza un po' la cosa te la sensibilizza te la addolcisce e contrapposta la pretensiosità è il nuovo dark però funziona per quanto riguarda i power up la varietà di poteri magici e armamenti può risultare parecchio satura anzi lo è ma stanno delle cucchie uniche anche per dei personaggi che di principale hanno poco e nulla sia l'ordine di cui fan parte i protagonisti che gli antagonisti ha dei design che tutt'oggi si difendono benissimo o addirittura sono immortali dai vari bankai degli shinigami alle varie resurrection degli arrancar questi ultimi impatti sono i nostri presenti perché smontano il loro corpo non è il problema che ci sono troppi power up e quali power up ci sono perché quando vedi Rukia che è uno spirito sbloccare il bankai e il bankai è che la sua temperatura corporea si avvicina allo zero il problema non è che ci sono troppi power up ma che è una cosa stupida perché è lui ad aver stabilito che quelli sono spiriti e non hanno il corpo oppure quando c'è un personaggio con il potere di rendere in realtà tutto quello a cui pensa e non riesce a sconfiggere Zaraki perché se lo immagina troppo forte sono questi i problemi di Bleach non che ci sono troppi power up ma che fanno schifo questi power up mostrano tutta l'incapacità di Google di scrivere una storia e tu mi vali delle tematiche sono finita la critica possiamo andare avanti si ok modificando fisionomia in particolare statura e costituzione ma anche voce non è solo un power up è una vera e propria metamorfosi però tutta la mole di cose cioè praticamente sono i pokemon anzi no scusa sono i digimon perché poi tornano alla forma normale eh sì 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 sono i digimon porco 2 se poi non aveva mai vista eh non lo dico mai tipo un Naruto che fai in modalità erebita e poi torna normale un Naruto che va in modalità volpando le cose e poi diventa normale oppure che ne so Goku che diventa Super Saiyan e poi diventa normale eh ma non gli cambia la voce e cambia sotto il cuore dei capelli ah però aspetta oddio però effettivamente se pensi al Super Saiyan 2 di Vegeta e Trunks diventano più grossi eh il livello 3 gli crescono pure i capelli eh ah no aspetta il 4 non è canonico niente non vale se vuoi puoi menare in ballo il Super Saiyan God non so che cosa sia i capelli cambia i capelli e c'ha un aura attorno ah tipo il tipo ah ok vabbè il coerio di gli occhi scusa può confondere tanto può confondere di base non ha nulla di innovativo Bleach nel dare questi power up modificanti ma come lo fa Kubo ti alleggerisce il fattore mainstream dandoti come detto design da paura gli sceneggi cosa cazzo vuol dire che ti alleggerisce il fattore mainstream mi è piaciuto e quindi devo giustificare il fatto che mi sia piaciuta una cosa brutta molto semplice questo è il senso indipendentemente da che sia bella o brutta ma io dico ma c'è veramente bisogno di fare tutti sti pane cilici per dire mi piace una cosa cioè io non sento la necessità di spiegare tutta la coltura che sta dietro ai chicchi di caffè se vengono da di lì da di là per dire che mi piace bere il caffè no ma poi io posso celebrarti Kayon in tutte le maniere che voglio posso presentartela come la serie più profonda del mondo ma se tu hai visto Kayon sai già che non lo è quindi di per sé creare questi ragionamenti assurdi per provare a cominciare qualcuno che ha già un'idea ben precisa che è quella poi obiettiva della serie è proprio una cosa che lascia il tempo che trova se semplicemente voglio fare un video per dire mi è piaciuto Bleach dico sì è molto più accettabile che cercare di costruire un ragionamento sul nulla portando avanti delle posizioni per loro giuste che però poi in realtà a livello logico non ha nel minimo senso cioè che senso ha a dire vabbè ma puoi te lo lasciare il fatto che la storia sia una merda perché i design sono fichi no ti alleggeriscono il fattore mainstream sì che poi ma che cazzo vuol dire questi sono design pensati per il mainstream come fanno all'alleggerire qualcosa che cercano di abbracciare ma cosa vuol dire alleggerire il mainstream non ha senso sta frase Italo è la cultura oratoria cerchiamo di recepirlo in italiano dandogli il senso di alleggerire la sua natura mainstream presentarlo come qualcosa di non totalmente mainstream il problema è che fa l'esatto opposto quel design allora compiti per casa prossima settimana voglio per Instagram un post di Paolo dove ci parla dell'alleggerimento del mainstream oddio santo muoio di avanti sono le loro zanpacto per quanto siano semplici armi con due pezzi di ferro gli sono cresciuti i capelli sono semplici armi con due pezzi di ferro sono delle spade ma che ragione questa arma che dà il nome a quest'ultima zanghez tenza zanghez dando dei design funzionali anche se preso che assurdi in fatto di utilità sono delle catane sono delle normalissime catane te li fa valutare quasi come veri per come vengono utilizzati in battaglia e chi le impugna è lo spadaccino a darne valore anche se sai benissimo che non saranno davvero utili in uno scontro corpo a corpo ma lì è anche sospensione dell'incredulità non forzatamente la grandezza dell'arma significa più potenza fortunatamente vediamo appunto gente con dei pugnali che riesce benissimo a stare dietro delle spade di misura normale o con ti prego sta seriamente facendo il discorso che non è per forza non è importante il martello grande ma avere un grande martello per fare una grande parete ci vuole un grande pennello come dicevano gli atroci un raggio la miseria io rimango pietrificato uno dei punti di forza di bleach è il fatto che non è lo spadone grosso a farti vincere ma anche quel pugnaletto puoi farti valere in battaglia se lo sai usare ma anche ponendo il fatto che non l'abbia vostro come un punto di forza che senso ha parlarne mi vuoi dire perché è bella sta serie mi hai detto solo che ho dei risagni fichi fine ma c'è anche le spade fiche le spade rispecchiano il preferaggio però rientra nel design perché anche quello delle spade è design ma come rispondi sono sconvolto mi fa magari sembrare anche brutto anche cattivo questo tipo di reazione però mettetevi nei miei panni io sono dieci anni che provo l'animazione in una maniera che possa interessare anche chi non è realmente colpito dall'animazione e poi devo tornare sempre sui soliti lì ad ascoltare ragionamenti insensati e che possono essere considerati appunto validi soltanto in questo ambiente perché in un film non sentirai mai un discorso del genere un critico che va a fare una recensione di un film un'analisi di un film non ti metterà mai a dire che in un film d'azione per esempio non sono quelli con i pistoloni più grandi ad avere poi ragione che cazzo di ragionamento è si è bellissimo questo film di guerra era bella la sceneggiatura belli la fotografia la regia bellissimo col piano sequenza però ci hanno messo gli m4 ci hanno messo gli m4 al posto degli ak47 no non è bello mannaggia miseria mannaggia miseria che cazzo ho fatto che hai fatto? non ti ho aperto una scheda ah ok no che poi lagga no ma e la cosa bella è che sono queste a parte che ci ha tenuto apprezzati che non è un'analisi ma è vabbè un po' qualcosa ti topavi lo scritto nel titolo e sono questi quelli che il pubblico vuole sono questi quelli che il pubblico ascolta è perché c'è un problema di fondo questo non lo scopriamo oggi vabbè vediamo se effettivamente inizia a dirci qualcosa colossale anche se la serie si deduce spesso in modo ormai cliché a chi ha il reiazio più potente la pressione spirituale ci sono certi scontri psicologici che rimangono tutt'oggi leggendari scontri leggendari basta 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 ma come c'è lo scontro psicologico di Aizen letteralmente uno dei migliori villain dai gli scontri psicologici in bleach questa manco paolo mamma mia gli scontri psicologici dammi un minuto un minuto perché se no sono i 54 possiamo anche smettere nel senso vabbè a tuo rischio è pericolo qua proprio è ridicola la cosa ti stanno dicendo che se è il 54 possiamo anche chiudere così non devi scoppiare basta abbiamo cominciato finiamo ma come si fa che vuol dire psicologico a parte la descrizione in sé per sé perché magari quella giusta sarebbe tattico non lo so la butto così ma che vuol dire psicologico in bleach ma siamo seri ma guarda che lui non sai prima se è buono cattivo cambia fronte fa è una volta cabana ah e questa è la psicologia sto provando a interpretare quale potrebbe altra essere evita di interpretare perché sono incazzi ancora di più questa è l'interpretazione ma mica è colpa mia non l'ho mica detto io scusa però tu appunto ti intessa un'idea ancora peggiore di quella che c'avevo perché pensavo semplicemente che per psicologico lui intendesse quei due mezzi ragionamenti che fanno in quello scopo guarda spero di no nel senso cioè io sarebbe meglio quella che penso io piuttosto che quella che pensi te eh sì anche perché non vorrei dirlo ma come si risolve questo scontro con una tattica con Ichigo che pensa come sfruttare i poteri di Aiden per sconfiggerlo no c'è il mega power up dove poi Ichigo perde i poteri perché è troppo forte grande psicologia mi ero fermato a Ichigo pensa sinceramente vabbè magari ce lo spiega adesso il lane della nostra lista ed è spessissimo apprezzato dall'intera community anime per quanto è scritto e sviluppato bene e per quanto è tamarro dal suo character design al suo tema musicale lo più giochista perché fai questo sono cattivo ah wow che motivazione incredibile scusa ma io che questo è scusa ma io ho sentito che ha studiato benissimo dal suo tema musicale che senso non l'hai sentito no ti prego è uno dei migliori villain della nostra lista ed è spessissimo apprezzato dall'intera community anime per quanto è scritto e sviluppato bene e per quanto è tamarro dal suo character design al suo tema musicale doppio giochista come non mai e in continuo buon viso e cattivo gioco facendoti sì sì la musica poi nel manga immagino animanga 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 sì è un continuo meme cioè cerco di interpretarlo come un continuo meme perché purtroppo non lo è ci credono in queste cose che altro credono che siano sensate vai a vedere che senso ha la scrittura di Heisen ah sono stato scritto per essere un cattivo ma che ero scelato che fosse un cattivo perché ci voleva il big reveal e sono stato scritto per essere rottissimo solo per poi far diventare rottissimo Ichigo sì sono stato scritto così bene che l'autore non aveva idea di come andare avanti dopo di me e sono stato scritto così bene che mi ha usato come Deus Ex Machina nell'ultima stagione nell'ultimo arco perché non avevo più alcuna utilità visto che sono stato scritto così bene e quindi ho dovuto interpretare quel volo lì sì odiare ma straapprezzare per quanto funziona maledettamente bene in ogni contesto un altro ottimo villain è sicuramente nostro preferito il Chiorra di cui chiunque ha visto la battaglia con Ichigo basta lorde ma è la caratterizzazione di avercelo fatto piacere perché sei cattivo perché sono triste oh lui soffre lo capisci soffre le strisce qua sono lacrime io sono particolare continuiamo a dire che questi sono personaggi ben scritti perché forse mi rende un'idea di che cosa voglia dire essere ben scritto perché tu pensi che la gente che utilizza i termini ha scritto bene sappia che cosa voglia dire scrivere un personaggio mi devi sempre mettere davanti alla mia stupidità scusa però anche te grazie Fendi per la sub mio fratello Caneki soffre di più infatti è un villain ancora migliore esatto però guarda nota anche le somiglianze fra il Chiorra e Caneki è un pezzo bianco cambia gli occhi i capelli quando si trasforma anche quelle sono le caratteristiche nelle personaggi è scritto bene ah un personaggio scritto bene è persaggio triste è scritto ver però cioè guarda come soffre si e poi mi dispiace pure dover ridurre il tutto a frasi come è triste o ah io sono cattivo però è questa la caratterizzazione dei personaggi di Bleach cioè Zaraki perché è fico perché è fico punto non perché abbia un carattere ben definito è quello il personaggio migliore di tutto Bleach raga finiamo dai facettature dell'animo umano a causa della sua mancanza di cuore ti permette di vedere la crescita del suo interesse e fascino verso quella razza in questo continuo loop di timore e curiosità tant'è vero che sfocia in malinconia nei suoi ultimi momenti sono tutte si caratterizzazioni banali ma mai scontate e quando inserite in modo corretto ti danno un po' un senso di gioia un grosso down di Bleach e l'enorme cast di personaggi che contiene l'opera si è variegato con ottimi personaggi secondi e terziari che spesso ti fanno dimenticare dei protagonisti per quanto buoni ma che potrebbe diventare confuso e avere quell'altro grande personaggio aspetta ma quello come si chiama questo problema è anche calcato molto dall'anime se si guardano i filler che senza una lista da consultare sono piuttosto difficili da scremare tanto gli animi siano degli ottimi tappabuchi ma dall'altra parte sono meglio di tutta la serie i filler di Bleach e sono perdere molto l'interesse in svariati punti fra due saghe con 20 episodi di nulla è un'alternarsi di qualità buona e pessima dove ogni tanto c'è anche la mano di Titekubo ma nulla di mai così speciale fuori dalla timeline canonica del manga poi tutti sappiamo com'è andata dopo Mugetsu che è anche l'ultima parte dell'anime che non piace praticamente a nessuno lì si vede un declino e purtroppo quelle anche canon un fiore all'occhiello è sempre stato il reparto tecnico dell'anime anche se è del 2004 possiamo dire con certezza che abbia delle animazioni o una delle animazioni più belle di quegli anni per una serie televisiva sempre in salita con il progredire della storia fino al 2012 studio per Raw era al tempo al 100% in praticamente tutti gli episodi anche i tanto criticati filler il che rimane ammirevole seriamente perché ci sono certe perle di animazione anche semplice che tutt'oggi sono validissime la serie ha anche certi loop perché si Pierrot era al 100% in ogni episodio Pierrot ha fatto blitz come ha fatto tutte le altre serie figlio mio cioè apritelo anime news network vai a vedere chi ci ha lavorato sono le stesse persone però anche se ci sono animazioni banali cioè sono perle che sono sopravvissute al fine già oggi si ho aperto animazioni banali che cazzo vuol dire mi devi spiegare io non riesco più ad essere interessante ragazzi scusatemi sono davvero mortificato da questo video per fortuna è interessante il video ci pensa lui a tenere alto il morale degli spettatori vogliamo ricordare che nel mente stavano anche producendo la serie di naruto quindi avevano due big free in casa e non è qualcosa da poco la serie animata è stata sicuramente estenuante che c'entra saputo grazie ad alcune interviste ed è assurdo che non sia mai stata intaccata in modo grave con mancanza di buone animazioni e eventi iconici non sono nemmeno andati in anime original o hanno continuato con una ending separata dal manga e la cosa un po' spaventa onestamente sia per l'ottima scelta sia per il lavorone un'altra menzione d'onore legata all'economia comunque veramente loro sono al 110% la rappresentazione dell'anime fan medio 100% però l'anime fan medio che magari ha letto da qualche parte ben scritto e quindi si è immaginato di avere tutte le capacità di poter analizzare e determinare che cosa è fatto bene e che cosa è fatto male anche cosa è ben animato e cosa no perché hanno letto anche ben animato costante certo sì 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 costante mi sarei da 300 episodi sicuramente è costante poi una delle migliori animate dell'epoca nel 2006 quando è ancora vivo che ne so Satoshi Kon quando la made house faceva uscire che cazzo ne so Kaiba Kaiba mi sa proprio un po' avanti ma avete capito insomma io io vabbè dai finiamo una parere nostro must listen e attualissime per appassionati di anime non tra colmo di temi spagnoleggianti nei titoli ma la musica è quella di Bleach eh sì sì perché almeno quella le note le note e nei nomi da la snotice spada al cui design tipo quello da pipistrello di chiamato letteralmente mursielago appunto pipistrello e ci piace troppo che il nome utilizzato da un'altra lingua si riferisca a qualcosa di concreto per non parlare sta per dirci che forse i nomi dei volumi sono presi dal mondo della musica adesso cosa rivoluzionaria sì non è che mursielago è una macchina è che è da là che l'ha preso eh è una macchina mursielago Lamborghini non lo so non so di macchina però al di là di quello scusa perché perché è interessante che utilizziamo in spagnole perché è una cosa buona perché mursielago pipistrello lui ci arriva a pipistrello è integrato con la caratterizzazione del personaggio ma veramente non si rende conto persino lui che non sta dicendo nulla che sta prendendo delle cose che semplicemente gli danno ragione alla sua testa ma che effettivamente non dando senso no ma in realtà cioè andrebbe benissimo se fosse stato il i motivi inutili e insignificanti per cui però comunque Bleach mi piace ci poteva stare molto di più va vabbè composto è molto simile a il che ora colui che piange e nel design ha effettivamente delle lacrime che sgorgano dagli occhi wow cazzatine che ti fanno apprezzare molto di più mi sento un po' cosmic brain in questo momento dove le cazzatine che ti fanno apprezzare di più no me ne fega nulla fermati anche lui ma ho messo delle cose spagnoleggianti nel manga guarda quanto è figo se questo non ti dà l'idea di che tipo di scrittore è Titecubo non so che possa dartela ci sono tantissime cose che ci piacciono di quest'opera alcune le abbiamo neanche comunque non avremmo finito in 30 minuti filati tra Rancar Sol Society Zampakuto Bankai Shikai Fullbringer Quincy armi uniche world building livello di potenza derivati fra poteri classe a ti piace il world building mamma mia quanta roba sarebbe una fatica ognuna di queste cose ha un qualcosa di figo che ci ha sempre preso ma in tutto si è vero come il fatto che per esempio c'è un re nella Sol Society che non si capisce che cazzo sia non a livello di operazione se non siamo troppo pretese che sono due persone ma a proprio livello di condivisione diffusione e valorizzazione qui in Italia soprattutto vediamo roba venire osannata ogni giorno con anche i giusti motivi lo facciamo anche noi e questo Big Free si è beccato poco e nulla se non un manga e qualche special in italiano davvero nulla di più giusto di recente si sono svegliati un po' portandolo su Prime forse anche per essere pronti per quando uscirà la Thousand Year Blood War che aspettiamo con tutti noi stessi con grandissimo hype perché vogliamo fare quel balzo indietro Bleach per noi è nostalgia è molto importante molto proprio a livello personale non è mai stata un'opera perfetta non è mai stata un'opera rivoluzionaria ma si è fatta la sua fetta di pubblico un po' ovunque pur rimanendo dopo un po' di tempo quasi di nicchia se ci pensiamo capito di blicciola affanculo va ma con tutto il cuore come fai a dire quasi di micchia vai su qua stiamo a prendere il culo qua è proprio negare la realtà a me va bene che ti piaccia a me ne fega proprio nulla è piaciuto a te non a me però non ci si può mettere a negare quella che è la realtà e a cambiare la verità delle cose pur di darsi ragione da soli è proprio un modo di fare sbagliato e bruttissimo cioè quale mente sana incorpore sano si mette a dire che è bliccio di micchia ragazzi per piacere eh qua siamo proprio al vidicolo del vidicolo ma quindi visto che io ho letto bliccio posso considerarmi un elitista cioè tu ti rendi conto a che livelli arriviamo pur di cercare di avere ragione ma poi nel senso chi è che ha detto chi è è un big three però è un po' di micchia si poi la serie l'aspettano tutti anche se tutti sanno che sarà una merda visto che gli ultimi due archi sono lo schifo dello schifo però è di micchia eh ma anche te scusami è arrivato soltanto un manga in Italia si e pochi special che poi sono i film non sono i special però vabbè c'è pure a sbagliare sulle cose che ti piacciono poi io non vorrei dire caro Data Channel ma una vecchia canzone diceva nostalgia nostalgia canaglia perché forse forse la nostalgia è una merda la nostalgia è ciò che ti fa vedere bene cose che in realtà dovrebbero mostrarti dopo un certo punto tanti difetti tante problematiche che tu ignori appunto in favore della nostalgia e non è una cosa positiva se bridge è per te nostalgia non è importante è meglio che inizi a metterlo da parte perché vuol dire che non stai andando avanti vuol dire che sei fermo lì e non hai possibilità di progredire quando invece la vita di un lettore di un appassionato di animo di manga arte in generale dovrebbe essere un'evoluzione non rimanere fermo al punto di partenza perché oh che bello ci stanno le spade dei significhi però sono personaggi scritti bene sì sì vero soprattutto Ulkeorra che è triste Ulkeorra Ulkeorra è Ulseirano cavolo ma perché non l'ho visto prima come ha visto Naruto o One Piece e altri ti fanno che merda ma capiamo al 100% per noi rimane molto speciale avendolo seguito quando ci siamo avvicinati al mondo anime e addirittura ci giocavamo i giochi su piece neocidellari ma giocavo pure io al gioco del PS2 di Bleach perché era più dark perché era più serio perché era più edgy possiamo dirlo per quanto ci piacciono le altre due serie appunto Naruto e One Piece comunque ci dà qualcosa in più non sappiamo neanche noi perché ci aspettiamo tantissime grandi cose dalla nuova serie al massimo di dà qualcosa in meno perché manco gli sfondi c'ha ma guarda se tutto il video fosse stato solo questa frase io lo accettavo che non lo capiscono neanche loro che cosa gli dà di più quindi va bene però non mi fai altri dieci minuti prima in cui cerchi di dirmi che cos'è questo di più senza avere la più parità di idea di che cosa sia mamma mia mamma mia vabbè posso chiudere un appunto soltanto sul fatto che caro Data Channel non sei stato l'unico a seguire Bleach mentre usciva e soprattutto il fatto che non sia arrivato in Italia come sai la maggior parte degli anime dell'epoca non ha pregiudicato il suo successo visto che comunque è stata una serie super popolare nel periodo di pubblicazione quindi questa narrazione del eh ma l'abbiamo visto praticamente solo noi e poche altre persone è totalmente sbagliata quindi cioè io posso capire quelli che fanno gli elitisti che sono gli unici che si sono visti Katami Galaxy porca troia ma che santo ma con Bleach dai è proprio il ridicolo del ridicolo senti veramente che Bleach è di nicchia penso sia la più grande stronzata che ho sentito da quando abbiamo sto canale poi lo sapete io solitamente cerco di evitare di arrabbiarmi così ma con questo tipo di modus operandi davvero non ce la faccio che è proprio il contrario di tutto quello in cui credo francamente che è non so più come commentarle queste cose vabbè vabbè è stato bello veramente un video piacevole grazie da Taryborn noi vi mandiamo dallo scriba fategli un saluto da parte nostra domani che fai non lo so ancora però penso di una manga club ok quindi si parla di fumetti tanto tu ne vieni mai a vedere l'album non puoi sapere se sono così o meno non puoi sapere che te le seguo tutte ti commento pure manco se lo ricorda ti ascolto anche se parli di manga che non me ne fai niente quindi più amore di così proprio non si può ah boh raga domani con il nostro caro Italo ora vedo lunedì se faccio live oppure no visto che è festa se no ci vediamo direttamente martedì insieme ah e domenica ovviamente avete Paolo vi andiamo la vostra salutate bye bye ciao ragazzi